buongiorno a tutte e a tutti e cominciamo questa seconda giornata e la giornata è strutturata eh ci sono quattro conferenze stamattina e quattro oggi pomeriggio e qua trovate il programma della mattina e là c'è il collegamento perché du rom non funziona tanto bene e volevo soltanto dirvi due cose tecniche la prima è che abbiamo le gli attestati di partecipazione alla conferenza che possono cioè che dovrebbero servire per i rimborsi e li sta compilando Christian quindi prendeteli insomma la seconda è che ci sono stati dati buoni pasto per la mensa la mensa è quella dell'università e eh si trova non della normale dell'università e si trova allora se voi andate in piazza dei cavalieri e avete davanti a voi il palazzo della carovana sulla sinistra c'è un cancello lo prendete là su lo vedete c'è un edificio brutto grigio di ferro e quella è la mensa ci sono tanti piani e si sono scelte di vari menu vegetariani tutti i tipi ecco e quindi basta quindi queste sono le le informazioni tecniche allora introduco analisa cesaroni dell'università di padova che parla di minfield games with aggregating interaction potentials of shocker type grazie analisa grazie e grazie agli organizzatori e a paola a cristiana ed alessandro per aver organizzato questo con questo convegno molto carino per ritrovarsi insomma e parlerò di questo problema di cui ha già parlato ieri chiara un pochino e parlerò di alcuni un risultato che abbiamo avuto che abbiamo scritto con chiara sull'esistenza di soluzioni per questo equazione di questo sistema minfield ergodico cioè un sistema ellittico e poi volevo discutere qualche problema aperto qualche cosa che abbiamo cercato di fare che stiamo cercando di fare che è in in divenire insomma e parte di questi questo lavoro è appunto un lavoro che fa parte della tesi dottorato di chiara bernardini ed è basato in parte su lavori su un lavoro precedente che ho fatto con marco cirante su altri lavori precedenti idee di marco anche nel caso appunto di giochi a campo medio stazionari con interazione di tipo aggregante cioè quindi potenziale antimonotono e il problema che consideriamo è il seguente in tutto rn senza condizione di periodicità e abbiamo la prima equazione che è l'equazione di Hamilton Giacobbi che è un'equazione di tipo del secondo ordine ellittica con un potenziale in cui sia u che lambda sono le incognite lambda è la costante ergodica e il potenziale è scritto in termini di un potenziale che dipende dalla posizione v di x che sarà assunto essere un potenziale continuo e confinante all'infinito quindi è una funzione che prendiamo limitata dal basso quindi strettamente positiva e con crescita polinomiale all'infinito e questo termine ci darà in qualche modo compattezza al problema dato che ci muoviamo in rn e un potenziale di interazione che è fatto tramite un nucleo di interazione non locale che prendiamo per semplicità essere il nucleo di rizza con alfa che è un parametro che viaggia tra 0 e n la dimensione la seconda equazione è l'equazione che descrive le misure stazionarie e il problema è le misure invarianti dei processi stocastici che si muovono con velocità ottima che è data da gradiente di u per modulo di gradiente di u alla gamma meno 2 gamma è un parametro anche quello strettamente maggiore di 1 e ovviamente m è una misura è una distribuzione della massa di tutti i giocatori quindi l'assumiamo strettamente positiva una volta che è maggiore o uguale di 0 è strettamente positiva dappertutto dato che è soluzione di quell'equazione ellittica e con massa fissata quindi la prendiamo in L1 positiva con massa fissata e siamo interessati a soluzioni di questo sistema che sono quindi triplette um lambda anche lambda è un'incognita del problema ed è appunto la costante ergodica ed è legata a questo lambda se uno vede il problema dal punto di vista variazionale è il moltiplicatore di Lagrange legato al fatto di mettere il vincolo L1 sulla massa ok il risultato il primo risultato che abbiamo che è appunto un risultato basato su una tecnica standard in giochi a campo medio è il seguente se l'aggregazione l'aggregazione il potenziale di aggregazione è dato dall'interazione cioè il potenziale di interazione è modellato con questo nucleo di interazione non locale che è il potenziale di Ritz che è dato dal nucleo di Ritz dove questo alfa abbiamo detto è tra 0 e n più alfa è piccolo più l'interazione è forte allora abbiamo questi due risultati se alfa è abbastanza vicino ad n cioè sta tra n e n meno gamma primo dove gamma primo è il esponente coniugato di gamma allora per ogni massa m riusciamo a costruire una soluzione del sistema ellittico che ho scritto prima se invece alfa sta tra n meno gamma primo e n meno 2 gamma primo quindi alfa è comunque non troppo piccolo non troppo vicino a 0 allora comunque riusciamo a costruire una soluzione del problema purché la massa non sia troppo grande vuol dire che in questo caso abbiamo un'interazione abbastanza forte però se l'interazione è troppo forte ci aspettiamo che il problema non abbia soluzioni classiche perché ci aspettiamo la concentrazione di soluzioni delle soluzioni della densità di massa cioè ci aspettiamo che questo problema non abbia una soluzione cioè che non ci siano soluzioni regolari di questa equazione quindi ci aspettiamo che se l'interazione è troppo forte ci aspettiamo che si sviluppino singolarità però se la massa è sufficientemente piccola non c'è abbastanza cioè l'interazione pure forte non ha abbastanza massa per sviluppare singolarità insomma l'idea sarebbe un po' questa e come sono queste soluzioni? sono soluzioni regolari che hanno crescita per quanto riguarda le soluzioni dell'Hamilton-Giacobi sono soluzioni che hanno crescita polinomiale all'infinito dove la crescita è data in termini di quello che ci si può aspettare V cresce come un polinomio X alla B e il gradiente di U nell'equazione ellittica è elevato alla potenza gamma quindi quello che ci si può aspettare è che U cresca polinomialmente come una potenza del tipo B su gamma più 1 e il gradiente sia limitato in questo modo abbia una limitatezza di tipo polinomiale sia localmente limitato e abbia crescita di questo tipo polinomiale per quanto riguarda invece la soluzione della seconda equazione abbiamo che possiamo dimostrare che anche questa è regolare la soluzione di questa equazione è la M è l'infinito quello che si dimostra è che utilizzando tecniche di teoria ergodica insomma utilizzando la teoria delle funzioni di Lyakonov si dimostra che M ha momenti finiti per ogni potenza P e da questo quindi M per modulo di X alla P e sta in L1 per ogni P e da questo si deduce che M sta in L infinito e M in realtà è in tutti gli spazi di sobole W1P per ogni P quindi è regolare, olderiana, eccetera e integrando l'equazione si vede che lambda la costante ergodica coincide diciamo con il valore di questo il valore ergodico di questo di questo che può essere visto come una 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 non mi vengono le parole scusate cioè come il valore come il valore ergodico di questo di questo funzionale energia dove ciò diciamo moralmente posso pensare che questo sia l'equazione queste equazioni descrivano il comportamento in tempi lunghi di un gioco ergodico in cui ciò infiniti giocatori distribuiti secondo la massa M ciascuno dei quali gioca in modo ottimo e il controllo ottimo del ciascun giocatore è questo è questa quantità qui gradiente di U per modulo di gradiente di U alla gamma meno 2 e il valore del gioco complessivo è è dato da questa energia cioè dove c'è un termine cinetico che è esattamente dato dalla dalla media su tutti i giocatori della della velocità della velocità utilizzata è più un termine potenziale dove c'è un termine potenziale che è la media di questo potenziale confinante V di X quindi i giocatori tenderanno a mettersi nei posti in cui V è più piccolo possibile quindi V in qualche modo descriverà una una delle preferenze spaziali per i giocatori e in questo in questo senso prendere V confinante V coercivo all'infinito aggiunge compattezza al problema e e poi un altro termine di tipo di interazione un altro tipo potenziale di un altro termine potenziale di interazione in cui ho questa interazione tra i giocatori descritta in termini di questo potenziale di di Ritz e col segno meno davanti il potenziale di Ritz è un il nucleo di Ritz è un nucleo definito positivo quindi questo termine eh ha sempre un segno negativo ha sempre segno negativo e cosa sto dicendo sto dicendo che i giocatori tendono ad andare nei posti in cui per ottimizzare questo funzionale eh questa energia tendono ad andare nei posti in cui ci siano ci sia una buona densità di altri giocatori e la soluzione di questo cioè la la dimostrazione del dell'esistenza di soluzioni per questo problema si fa con una tecnica standard che è quella del di cercare un punto fisso che diciamo anche dal punto di vista teorico adatta quello che è la la struttura dei dei minfield game che in qualche modo modellano in senso eh per infiniti giocatori il concetto di equilibrio di Nash e come si fa a trovare questo punto fisso volevo andare velocemente eh mh sulla dimostrazione anche se è è una cosa abbastanza standard allora la prima cosa che si fa è si regolarizza un po' il problema eh mollificando e si cerca un punto fisso eh della mappa che allora cosa faccio? prendo fisso la massa dentro l'equazione di Hamilton Jacobi quindi prendo una massa mu fisso la la distribuzione di massa diciamo mu dentro l'equazione di Hamilton Jacobi risolvo l'equazione di Hamilton Jacobi in questo caso l'equazione di Hamilton Jacobi è un'equazione ellittica definita su tutto rn con un potenziale che a questo punto sarà una funzione continua alderiana eh localmente alderiana e eh che sta localmente in L infinito con crescita con crescita polinomiale perché questa quantità qui questo termine qui viene in L infinito grazie alle alle proprietà di regolarizzazione del del nucleo di Ritz e una volta che ho la soluzione la coppia la soluzione U lambda soluzione dell'equazione di Hamilton Jacobi e mh quindi diciamo una volta che ho eh la velocità ottimale per il giocatore medio eh nel mio problema nel mio problema di controllo ergodico in cui il giocatore assuma che tutti gli altri giocatori siano distribuiti secondo una certa distribuzione di massa mu eh vado a risolvere l'equazione di Fokker Planck con quella velocità con quella prendendo quella quella velocità per tutti i giocatori e e e trovo e cerco la soluzione di questa equazione di Fokker Planck imponendo il vincolo L1 imponendo la positività e se trovo un punto fisso di questa mappa un punto fisso di questa mappa è ovviamente una soluzione del del minfield come faccio dove dove cerco un punto fisso di questa mappa per applicare il teorema di Schauder devo cercare o devo prima di tutto trovare un insieme che viene mappato in se stesso da questa mappa e e che abbia immagine precompatta e insomma che sia ehm devo dimostrare che questa mappa è continua che abbia immagine precompatta eccetera e allora l'insieme su cui lavoro sarà un insieme di questo tipo allora prendo eh le misure di le 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 densità di massa che siano in L1 e abbastanza integrabili e che abbiano che soddisfino il vincolo L1 che siano positive che eh soddisfino il fatto di essere non solo in L1 ma anche in L1 con questo peso V di X dove V è questo potenziale confinante e questo mi dà la compattezza e poi abbiano questa norma 2NN più alfa limitata perché prendo proprio questo esponente perché è l'esponente che viene fuori nella diseguaglianza di Yard di Little Sobolev quando eh è l'esponente che mi permette appunto di stimare eh la eh il l'energia potenziale di F per G eh mediata attraverso attraverso l'interazione K di alfa ok e una volta che ho definito questa questa mappa vado a vedere che appunto eh preso una come dicevo preso un qualsiasi densità di massa a in a esiste una soluzione del problema dell'equazione di Hamilton Jacobi ergodica dove qui c'è un mu non c'è m scusate e riesco a far vedere utilizzando teoremi classici di controllo ergodico per Hamilton Jacobi in tutto lo spazio eh che la soluzione eh u lambda barra soddisfa queste buone proprietà di regolarità lambda barra è limitato e una volta che ho questo riesco a trovarmi una soluzione del problema di dell'equazione di Fokker Planck e mettendo tutti insieme eh e integrando l'equazione di Hamilton Jacobi riesco a scrivermi che lambda bar è eh lambda bar di R di E per M per la massa totale è uguale al valore di questo di questa energia dove qui c'ho mu per M e eh come faccio adesso a questo punto per utilizzando stimellittiche per quanto riguarda le soluzioni dell'equazione di Fokker Planck riesco a stimare riesco a mostrare che eh l'energia cinetica controlla dall'alto la norma LPDM per tutti i P sotto una certa soglia e questo viene proprio da stimellittiche dovute che vanno indietro alla teoria di Agmon degli anni sessanta diciamo e e poi usando invece le stime di Ardi Little Sobolev stimo questa questo termine potenziale dell'energia dall'altra parte di nuovo con la norma eh mh in duenn in nello spazio di eh nello spazio funzionale L2NN più alfa o il prodotto di queste due norme e quindi mettendo insieme le cose le stimellittiche e eh le stime di Ardi Little Sobolev cosa che posso fare purché eh la 2N fratto N più alfa sia sotto la soglia eh per cui riesco a ad ottenere le stimellittiche e il miglioramento della regolarità ellittica riesco a mettere in moto il procedimento di bootstrap diciamo quindi eh e questo mi dà un vincolo dal basso sull'alfa eh ottengo una stima di questo genere e eh da questa vedo che se scelgo a questo punto eh se M è sufficientemente piccola eh e se scelgo la norma 2N N più alfa di Mu eh sufficientemente piccola anche la norma di M nello spazio 2N N più alfa è piccola nello stesso modo e riesco a far vedere che quindi la mappa la mappa che ho definito prima mappa l'insieme A in se stesso e a questo punto ho che le di nuovo le stime ellittiche eccetera mi danno la precompattezza e riesco ad applicare il il terramo di Schauder ma il punto fondamentale è questo tipo di disuguaglianza che poi tornerà utile in seguito e che appunto è una combinazione di hard delete volsobolev e stime ellittiche quindi vale solo in un range per alfa sufficientemente staccato da zero per alfa sotto questo sotto questa soglia come diceva ieri Chiara se ci si può aspettare che in generale non ci siano soluzioni regolari del problema perché quello che succede è che non ci sono soluzioni quando il potenziale non c'è perché c'è una identità di Pozaev che ci impedisce l'esistenza di soluzioni regolari e si possono forse costruire soluzioni in qualche caso molto particolare con potenziali molto particolari ma in generale non ci aspettiamo l'esistenza di soluzioni perché l'interazione è troppo forte e si sviluppano immediatamente singolarità ok e in conclusione quindi a questo punto uno riesce a trovare a trovare un punto fisso della mappa riesce a costruire quindi una soluzione di questo problema è regolarizzato dove qui ho mollificato ho moltiplicato per un mollificatore e quindi l'idea è poi passo al limite nella nella regolarizzazione e come faccio a passare al limite beh per passare al limite devo utilizzare delle stime a priori di tipo L infinito cioè se io riesco a trovare come diceva ieri Chiara se riesco a trovare se ho quello che che si mostra è che se ho una soluzione di questo minfield dove ho delle stime delle stime uniformi della soluzione M in qualche spazio L e Q con Q sufficientemente grande allora uniformi indipendenti dalla regolarizzazione scelta allora da questo deduco delle stime L infinito indipendenti dalla regolarizzazione scelta e questo questo tipo di stime a priori è fatto con tecniche di blow up tipicamente e con l'utilizzo di della teoria ergodica e della teoria delle funzioni di Liapuno e è stato fatto per la prima volta da Marco Cirant nel 2016 in un lavoro in cui faceva il caso periodico e poi l'abbiamo rifatto nel caso di tutto lo spazio e c'è da notare che appunto per passare da stime uniformi nello spazio LQ allo spazio L infinito bisogna che Q sia sufficientemente grande e Q è sufficientemente grande se Q cioè se alfa è strettamente sopra la soglia n-2 gamma primo se alfa è uguale alla soglia n-2 gamma primo queste stime di tipo L infinito non si riescono ad ottenere e in questo caso ci troviamo in un caso di di soglia in un in un in un ad una soglia critica che è legata a dei problemi di regolarità massimale che sono stati studiati recentemente da Alessandro insieme con Marco e e anche da Marco Marco Cirante e Gian Maria Verzini e e perché è un problema di legato a problemi di regolarità massimale perché in questo caso l'equazione di Hamilton-Giacobi nel caso in cui io abbia delle stime uniformi in LQ dove Q è uguale a quando alfa è uguale a n-2 gamma primo quindi Q è uguale a n su n- gamma primo ecco n-n- gamma primo questa soglia qui abbiamo un'equazione di Hamilton-Giacobi viscosa la placiano di U più radiente di U alla gamma più lambda uguale a una certa funzione che ha stime uniformi localmente uniformi nello spazio n su gamma primo n su gamma primo è l'esponente critico per cui sotto il quale non ci sono più risultati di regolarità massimale per soluzioni forti di questa equazione e questo n su gamma primo è la soglia sopra il quale invece io riesco ad avere risultati di regolarità massimale nel senso che riesco a stimare la norma della placiano e la norma di gradiente di U alla gamma in termini delle norme LQ del membro a destra e quindi questo caso qui in questo nel nostro setting è escluso ma potrebbe essere possibile in qualche modo trattarlo forse questo è un primo problema perché che cosa qual è l'idea l'idea che appunto non riesco ad avere queste stimele infinito ma dovrei cercare in qualche modo di utilizzare di più la struttura cioè la e questi risultati di regolarità massimale al caso all'esponente critico questo tipo di problema è stato risolto nel caso limitato con condizioni di Neumann al bordo recentemente da Cirant Verzini e Cosenza dove hanno fatto anche il caso critico che nel caso però in cui il potenziale di interazione non sia sia di tipo polinomiale non sia un'interazione di tipo ritma sono abbastanza simili le cose loro riescono ad ottenere l'esistenza di soluzioni anche all'esponente critico utilizzando delle tecniche utilizzando una condizione di ulteriore piccolezza sulla massa che gli permette di controllare il gradiente e quindi di avere un controllo sulla norma LQ di M per Q sopra il valore critico quindi questo per esempio è un primo problema che noi non riusciamo a trattare quello che succede al caso critico e però dieci ok no quello che ho perso tutto il tempo a discutere queste cose ma insomma quello che volevo dire è quelli che sono invece un po' i problemi aperti relativi a che si pongono partendo da questo risultato che abbiamo avuto allora a questo punto noi abbiamo l'esistenza di soluzioni di questo del problema minfield per tutte le masse sopra una certa soglia e per masse abbastanza piccole in questa soglia in queste soglie intermedie allora qual è qual è la prosecuzione del che altro che altro possiamo possiamo cercare di fare con le soluzioni che abbiamo trovato beh vogliamo cercare di interpretare queste soluzioni dal punto di vista variazionale cioè capire se queste soluzioni che abbiamo trovato sono sono punti di cioè si possono pensare come soluzioni di minima energia del problema oppure soluzioni di altro genere perché il problema ha una struttura variazionale come è stato forse già detto e le soluzioni di quel problema di minfield che ho scritto prima sono effettivamente legate a punti critici di una qualche energia che è questa un'energia fatta su tutte le possibili coppie mv di distribuzioni in tempo lungo degli agenti cioè sono tutte le coppie mv che soddisfano in senso debole questa equazione meno la placiana di u più divergenza di mv uguale a zero con vincolo l1 m positivo quindi queste sono tutte le possibili distribuzioni in tempo lungo cioè sono tutte le possibili distribuzioni misure invariante associate alla distribuzione degli agenti m e su queste su tutte queste possibili coppie descrivo queste descrivo questa energia che è appunto energia cinetica del problema quindi media delle velocità più energia potenziale quindi media del potenziale calcolato al punto x meno energia di interazione e questa energia è ha una una stima di questo tipo dal basso e la prima cosa che uno può osservare è che se alfa è sufficientemente grande vicino ad n allora questa energia è limitata dal basso e i minimi che trovi e le soluzioni che troviamo del nostro problema per ogni m sono in realtà minimi globali di questa energia e quello che quello che vogliamo capire è quello che troviamo invece le soluzioni soluzioni che troviamo e se ce ne sono altre nel caso in cui alfa sia sotto questa soglia la soglia n meno gamma primo sotto questa soglia l'energia non è più limitata dal basso e allora nel caso in cui la soglia sia proprio n meno gamma primo e alfa sia proprio n meno gamma primo abbiamo che questo termine qui il termine cinetico il termine potenziale diciamo scalano esattamente con lo stesso ordine nello stesso ordine e quello che abbiamo mostrato utilizzando metodi di tipo Schauder cioè il teorema di Schauder è l'esistenza di una soluzione per ogni m più piccolo di m0 queste soluzioni cosa sono? sono minimi globali dell'energia sotto la soglia critica sotto sotto una certa massa critica le soluzioni che abbiamo sono minimi globali dell'energia e e sono diciamo le uniche soluzioni che riusciamo a trovare e quello che quello che potrebbe essere interessante sarebbe andare a vedere che cosa succede quando m si avvicina alla massa critica m con 0 e che cosa si fa? allora si riscala il problema ci si riconduce al caso in cui tutte le distribuzioni hanno massa 1 e quindi la massa la pongo uguale a 1 e la massa il parametro m diventa un parametro di piccolezza davanti all'interazione quindi per m piccolo l'interazione è piccola e quello che uno può far vedere è che quello che succede è che per tutte le masse più piccole di m 0 esistono minimi globali dell'energia per tutte le masse più grandi di m 0 l'inf dell'energia è meno infinito e non ci sono punti critici alla alla massa m 0 l'inf è 0 dell'energia ma non ho punti critici di questa energia e questa soglia m 0 dovrebbe essere l'unico valore per cui l'unico valore della massa per cui l'energia libera senza potenziale confinante senza v abbia ammetta un punto critico e nel caso della singola equazione invece che del sistema questo è legato diciamo alla funzione ottimale di una diseguaglianza di gagliardonire generalizzata diciamo nel nostro caso questo tipo di caratterizzazione è completamente mancante e quindi una cosa interessante potrebbe essere andare a vedere quello che cerchiamo di fare andare a vedere quello che succede quando m si avvicina ad m 0 quello che uno si può aspettare è che appunto quando m si avvicina ad m 0 se io riscalo in modo opportuno le mie soluzioni con un riscalamento che terrà conto di questo andamento del minimo dell'energia e quello che posso vedere è che mi aspetto di vedere concentrazione dei miei minimi attorno a punti di minimo del potenziale e e un'altra cosa invece che lo stesso non riusciamo del tutto a capire bene è quello che succede invece sotto la massa critica sotto sotto l'esponente critico per la massa cioè quando alfa sta tra n meno 2 gamma primo ed n meno gamma primo noi abbiamo costruito quindi con Schauder soluzioni di questo sistema mean field e ci chiediamo che tipo di soluzione abbiamo costruito beh le soluzioni che abbiamo costruito in realtà sono minimi locali della nostra energia e la costruzione di minimi locali per questo tipo di energia c'è anche nel lavoro che ho citato prima e sono minimi locali cioè sono minimi fatti cercando i minimi dell'energia imponendo un ulteriore vincolo di questo tipo sulla norma l2n n più alfa delle masse e si può si quindi si cercano minimi della mia energia imponendo quel vincolo sulla massa sulla norma 2n n più alfa di m e ovviamente una volta che impongo un vincolo di questo tipo riesco a trovare con metodo diretto minimi delle mie energie a quale che sia il vincolo quale che sia il bound dall'alto che ho messo su questa norma però riesco a far vedere che se se si è sufficientemente piccolo in realtà il minimo non non satura il vincolo e quindi il vincolo non appare dentro l'equazione di Euler alla grana cioè dentro il sistema che descrive che descrive il fatto di essere punto critico ed è esattamente lo stesso tipo di cioè far vedere che l'inf delle energie su su questo vincolo non è non è saturato è è ottenuto da una da una qualche punto di minimo che non satura il vincolo è esattamente lo stesso tipo di calcolo che abbiamo fatto per far vedere che la mappa su cui vogliamo applicare Schauder manda l'insieme A in se stesso e quindi le soluzioni che costruiamo in realtà sono punti di minimo locale sono punti di minimo locale quello che si può far vedere è che quindi abbiamo costruito un punto di minimo locale all'interno della palla di raggio xi nella norma 2n n più alfa quello che si può far vedere è che quando questa norma 2n n più alfa tende a più infinito l'inf dell'energia va a meno infinito l'energia va a meno infinito anzi lungo tutti questi riscalamenti di questi minimi l'energia va a meno infinito quindi quello che ci possiamo aspettare è che esistano punti critici di tipo passo di montagna e quindi punti critici di tipo sella e questo sarebbe una cosa molto interessante da far vedere per i minfield game perché la costruzione di soluzioni dei minfield che siano non siano minimi ma siano punti critici di altro tipo ma al momento non siamo in grado di concludere di andare avanti in questo tipo di problema ma insomma è un problema aperto a mio parere interessante e niente con questo volevo concludere e appunto dire appunto questi problemi aperti di cui ho parlato sono appunto la costruzione di punti critici di Pummin Max e il caso critico in cui per la mass e vi ringrazio grazie Annalisa domande commenti c'è qualcosa sul caso evolutivo cioè c'è qualche risultato di esistenza di soluzioni almeno che hanno fatto Marco e la Daniela Tonon nel caso periodico però mi pare non in tutto RN in caso in tutto RN no nel senso che cioè con Marco abbiamo fatto sempre potenziali di tipo aggregante di tipo RITS senza abbiamo fatto il caso evolutivo per potenziali di tipo aggregante di tipo RITS senza la Placiano quindi senza diffusione ma imponendo ovviamente senza la Placiano quello che uno si aspetta è con questi potenziali aggreganti di avere immediatamente concentrazione a delta di Dirac e allora per evitare la concentrazione uno invece di metterci la diffusione nella Placiano ci mette un vincolo L infinito sulla massa cioè dice pone un vincolo dall'alto sulla su una norme L infinito di M e quello però ti dà luogo ad un moltiplicatore ad un termine di pressione dentro l'equazione dentro il sistema minfield e in quel caso lì qualcosa si riesce a fare sempre con metodi variazionali però in questo caso qua no allora quindi voi lavorate su questa soglia alfa uguale a n meno gamma primo no quindi questa è positiva per cui state nel regime gamma maggiore di n su n meno uno sotto diciamo quando no se gamma è minore di n su n meno uno quindi quando diciamo il termine ingrediente cresce poco la domanda è se c'è esistenza di soluzioni classiche sì sì ok ok e poi l'altra cosa era diciamo allora se nel sistema metto il segno più le cose dovrebbero andare meglio cioè siamo su rn eh no no se il problema fosse diciamo sul non so se il problema fosse sul toro o su un dominio limitato limitato con noi sì le cose dovrebbero andare meglio perché c'hai c'è un potenziale monotono e quindi dovresti sì dovrebbe essere dovresti riuscire a costruire ma con questi metodi qua sì comunque sotto la soglia n-2 gamma primo non vai però sì dovrebbe essere più sì in domini limitati certo con il più sì ci sono altre domande Antonio no volevo chiedere ma sono rimasto sorpreso che non ci sia una caratterizzazione più semplice del valore critico perché di solito di lambda perché tu hai presentato questa forma che è un po' complessa da leggere perché di solito nel caso non mi infighe in primo secondo ordine lambda si caratterizza sia in maniera PD sia in maniera diciamo come dire dinamica qui non c'è possibilità secondo non lo so cioè sarebbe una cosa molto interessante perché in realtà appunto se uno riuscisse a caratterizzare meglio lambda riuscirebbe anche a capire bene come come si comporta cioè lambda porta dietro molte informazioni sulle soluzioni quindi se lambda è strettamente negativo è staccato da zero ti puoi aspettare che le soluzioni si comportino in un certo modo però al momento noi niente meglio di quello e poi diciamo un'altra cosa domanda generale non so se abbia senso se ci togli la diffusione che cosa può restare di questi modelli appunto se ci tolgo la diffusione quello che succede è che c'hai immediata concentrazione sui minimi di v con delta di dirac cioè perché riz si massimizza dove m è una delta quindi però appunto riesce a fare qualcosa se tu elimini la diffusione devi mettere un qualche altra un vincolo un vincolo e quello che noi facciamo è il vincolo sulla concentrazione cioè imponiamo che la norma l infinito di m che m stia in l infinito e abbia un bound dall'alto sulla sua norma l infinito insomma allora lì riesce a fare però il sistema minfield diventa un po' più complicato c'è questo termine di pressione insomma che appare cioè c'è un termine di tipo appunto moltiplicatori di Lagrange legati a questo vincolo l infinito sulla massa però qualcosa si fa sì con Marco qualcosa abbiamo fatto nel caso evolutivo bene se non ci sono altri commenti e domande ringrazio ringrazierei ancora Annalisa passiamo a Antonio Siconolfi va bene allora presento Antonio Siconolfi dell'Università di Roma la Sapienza che ci parlerà di omogenizzazione Hamilton Jacobi Equations on networks grazie Antonio grazie 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 ringrazio tutti gli attrezzatori un invito molto gradito mi fa piacere anche parlare in italiano una volta tanto atmosfera diciamo come dire familiare il titolo l'avete già visto dunque è un lavoro sul network credo che questo è un piccolo diciamo soggetto il soggetto principale è un altro più quello che ha presentato analisa prima comunque vi espongo un po' diciamo di idee questa è una ricerca che stiamo svolgendo abbiamo svolto in collaborazione con Marco Pozza al Ponto Sorrentino sono tutti e due a Roma 2 e quindi noi partiamo da un network poi spiegherò un po' diciamo la differenza terminologica quella che uso io la differenza tra network e grafo allora il network è qualche cosa che è embedded è contenuta in RN mentre invece il grafo è una quantità è un ente dello stesso tipo ma diciamo in un certo senso più astratto quindi questa differenza è importante quello che verrà dopo allora quello che succede quindi noi abbiamo un'equazione di Hamilton Giacobbi che è posta sul network e noi cerchiamo quindi facciamo un'omogeneizzazione abbiamo dei problemi oscillanti dipendenti da Epsilon e facciamo un passaggio al limite e la cosa interessante è che noi troviamo un'equazione limite sempre un'equazione tipo Hamilton Giacobbi però questa equazione è definita invece uno spazio euclideo quindi non più in un network o in un grafo ma uno spazio euclideo e l'altra cosa che la dimensione non è più la dimensione n ma sì è una dimensione intrinseca del network o del grafo è la stessa cosa che questo cioè il numero degli archi non diretti cioè per ogni per ogni possibile orientazione dell'arco si conta uno meno il numero dei vertici più uno più uno perché noi assumiamo che ci sia connessione se ci fossero più componenti connessi allora quella costante finale e questo è una diciamo ci dà in un certo senso una raffuna una misura della complessità geometrica del network cioè quante più connessioni ci sono e meno vertici dove si incontrano queste connessioni tanto più il vertice è complesso quindi dal punto di vista tecnico si tratta di nell'analisi diciamo asintotica di tener conto che abbiamo delle soluzioni approssimanti che sono definite appunto nel network quindi diciamo in dimensione n e mentre invece il problema limite diciamo è diverso a dimensioni a dimensioni diverse e una diciamo caratteristica della metodologia di cui facciamo uso è che è una metodologia variazionale tipo completamente variazionale quindi non pdi e poi interverrà anche non so se ce la faccio presentarvi questa parte l'ultima parte si fa una specie diciamo di rilassamento una sorta di rilassamento del funzionale azione funzionale azione che entrano in gioco per cui alla fine il funzionale limite definono l'opportuno spazio di probabilità ecco questo è un overview non c'è molta letteratura ecco sul sull'oggetto la letteratura è più relativa a un altro tipo di omogeneizzazione che questa qui la chiamano specified pardon specified omogenization questa qui che è studiata sia nel tipo stocastico e periodico quindi è una specie di omogeneizzazione parziale per dare un'idea che viene è stata viene studiata soprattutto dalla scuola francese c'è un un articolo che ha iniziato questo business che è stato scritto da Ember Monnot e poi anche ha collaborato Giulio Galise e poi diciamo Forcadell e vari autori con lui hanno sviluppato questo punto di vista della specified omogenization soprattutto in vista di applicazione a modelli di tratto questa è diversa perché non è un'immaginazione parziale è un'immaginazione è un'immaginazione diciamo globale in un certo senso direi per distinguerla e che io sappia ci sono due lavori o due osservazioni precedenti sul soggetto la prima è di Ember Monnot che considera il caso geometricamente più semplice di un NERCOL generato da Epsilon Zn e diciamo e quindi ha qualche risultato in questo senso tecniche più PD e questo modello è stato recentemente ripreso da Camilli e Marchi non so se Fabio ha fatto un'esposizione su questo lo riprendono anche se poi credo che la finalità fondamentale del loro lavoro è avere stime diciamo di convergenza ecco questo per quanto riguarda l'Ettra poi passo rapidamente probabilmente la conoscete tutti ma vedo che c'è qualche faccia più giovane forse vantaggio loro di ricordare l'omogenizzazione il problema è un'omogenizzazione classico classico nel settim più semplice nel settim periodico poi è stato generalizzato moltissimo e qui bisogna fare riferimento al famoso lavoro di Lyons Paparicola Uvaradan e quindi questo è svolto in TN nel Toro quindi è un'organizzazione appunto periodica sto dicendo quindi abbiamo una meltoniana continua e coerciva e loro non assumono conversità perché usano le metodologie puramente PD non hanno bisogno diciamo di conversità mentre una serie di altre generalizzazioni compreso non so se ne ha parlato Andrea il caso diciamo stocastico invece la conversità gioca un ruolo significativo ma in questo caso no e quindi l'idea è questa questa meltoniana periodica sollevata in RN per RN per diciamo periodicità si considerano questi problemi diciamo periodici dove c'è questa oscillazione data dal parametro X su Epsilon si studiano questi problemi qua e si guarda il comportamento asintotico delle soluzioni degli Epsilon problemi quando Epsilon qui c'è una parte più semplice più classica che è lo studio della convergenza più che altro quando anche loro era scritto avevano quando hanno scritto l'87 questo lavoro avevano risultati diciamo di convergenza per diciamo la soluzione limite quindi esiste una soluzione limite c'è una convergenza diciamo uniforme in questo caso e la parte più più nuova quando l'hanno pubblicato almeno è la determinazione del problema limite del problema che era risolto dall'equazione limite e questo problema c'è compare qui la famosa amiltoniana effettiva cosiddetta è la definizione della amiltoniana effettiva un po' contorta perché praticamente h barra fa corrispondere ad ogni p il valore h barra b anche questo è un valore critico o ergotico torna nella suo setting più semplice è l'unico valore per cui questa questo amiltoniano quindi vedete l'amiltoniano perturbo l'amiltoniano con p ci aggiungo questo p è l'unico valore per cui questo ha una soluzione periodica questo in breve è quello che fanno i due qui voglio osservare questo che in realtà è possibile un altro approccio un approccio direi il classico approccio pd è un approccio amiltoniano mentre invece l'approccio variazionale è un approccio diciamo lagrangiano questo è possibile nel caso convesso quindi non il caso pd la tecchia pd permette lo studio nel caso non convesso e quindi come si fa si fa questo approccio tramite una rappresentazione variazionale della soluzione della delle soluzioni degli epsilon problemi e quindi anche della soluzione del problema limite questa è conosciuta come la formula di laxolenic interviene vedete questo funzionale di azione minima e questa è la formula di laxolenic quindi uxt la formula sto considerando un problema senza epsilon è dato dal minimo questo g è il il dato iniziale in zero il minimo è fatto tutte le curve che nel tempo t raggiungono x è una formula piuttosto semplice e il funzionale di minimo azione sta qui eccetera va bene allora qui c'è un'idea semplice tra virgolette ma in effetti non molto semplice come vedremo tra un attimo e quello dice vabbè io ho diciamo la soluzione quando un sito di epsilon è un problema apparirà un epsilon perché non passare direttamente al limite per epsilon tendente a zero e vedere che formule ottengo al limite allora la formula che ottengo al limite sarà la formula rappresentativa della soluzione del problema limite quindi se ho la formula rappresentativa posso anche ricostruire il problema limite ecco qui questo l'abbiamo già fatto con Contrera e Durriaga nel 2015 un'idea nuova questo risultato che è stato ottenuto permette di fare l'omogeneizzazione per amiltoniane non periodiche ma diciamo definite su qualsiasi varietà compatta quindi ammette questa generalizzazione anche qui c'è un lifting si solleva presso un opportuno spazio che sarà RN è un po' più complesso ma insomma si passa al limite questo diciamo risultato voglio mettere in luce questo questo approccio è basato in effetti sul risultato di John Mater non so se conoscete un matematico diciamo un dinamista molto famoso molto celebre per esempio a lui è intitolata la teoria di Oblimater per dire comparso molti anni fa e quindi c'è questa cosa di John Mater e io credo e vorrei presentare questo punto credo che la cosa più interessante forse interessante si può dire del lavoro che abbiamo fatto quello di cui siamo più contenti è che il diciamo questo tema di John Mater che spero di illustrare tra un poco si generalizza nell'ambiente network e gravi diciamo che con i messicani con Cortez e i duriaga noi avevamo già a disposizione perché giustamente il teorema di Mader è dato nell'ambiente varietà compatte anche non compattezza ma diciamo varietà compatte mentre invece nel caso di network gravi insomma chiaramente è una struttura di tipo diverso quindi bisogna aggiustare un poco va bene allora vediamo un po' che la sottigliezza è un risultato sottile molto sottile ed è questo allora scriviamo gli Epsilon Hamiltoniani qui c'è un fatto che in realtà nel caso nel caso network nel caso varietà nel caso varietà l'oscillazione piuttosto che mettere su una variabile di Stato va messa su una variabile del primo ordine la variabile di Stato non avrebbe senso se siamo su una varietà nel caso Toro per dire allora queste due scritture sono diciamo la stessa sono equivalenti si dimostra che i modelli non danno vita allo stesso modello va bene allora ecco qui quindi questo è ora il funzionale d'azione quindi questo diciamo è il funzionale che va diciamo minimizzato e quindi uno giustamente dice voglio passare al limite che cosa ottengo quando Epsilon va diciamo a zero quindi ecco diciamo in un certo senso visto dalla formula il problema diciamo asintotico c'è anche un dato iniziale G che non metto pensate che sia zero cambia poco ecco questo è il problema asintotico che uno deve studiare va bene o allora in questo il risultato di Mater dice diciamo è un risultato pessimista in un certo senso perché dice che il comportamento asintotico quando Epsilon tendente a zero di quel funzionale è pessimo perché non c'è un addirittura il comportamento asintotico non dipende dall'X e Y che sono eventualmente collegati dalla curva XI XI collega due punti ma diciamo dipende sostanzialmente da un'altra cosa che quante rotazioni fanno interpretare questo in un senso assolutamente intuitivo le curve che collegano X e Y cioè io faccio un disegno che questo mi permette ecco faccio un disegno che è questo noi siamo in uno spazio limitato siamo in una varietà compatta c'ho X e Y va bene e c'ho un sacco di tempo per collegare X e Y quindi mi immagino che la curva comincia a fare così c'ha un sacco di tempo per perdere comincia a fare queste oscillazioni e collegamento tra X e Y questo è quello che intuitivamente chiamo diciamo le rotazioni quindi il comportamento asintotico dice Mater non dipende da X e Y ma dalla struttura di questa rotazione ecco qui e quindi diciamo si tratta sostanzialmente O quindi qui c'è diciamo è specificato quindi per studiare il comportamento diciamo asintotico della formula noi dobbiamo diciamo prescrivere non tanto non soltanto ma non tanto il punto iniziale iniziale e finale delle curve ma in un senso da rendere matematicamente corretto le rotazioni che le curve fanno per collegare i due ecco qua questo è il teorema di Mater e l'orologio non funziona bene no perché là quello non è meno cinque ma quindi ho tempo posso parlare per un'ora per oltre un'ora benissimo e vabbè volevo ora quindi questo è il netto il netto sostanzialmente quello che voi immaginate è una struttura molto semplice è una famiglia finita di curve regolari parametrizzate per comunità in 0-1 che si incontrano in punti che si incontrano solo nei punti iniziali e finali che sono detti vertici ecco qui questa è una struttura molto molto semplice quindi si può pensare con una varietà di dimensione 1 però regolare a tratti perché la regolarità crolla diciamo nei vertici qui c'è l'assunzione classica che almeno il network di base sia connesso e finito e poi c'è quest'idea che dirò abbiamo sviluppato un pochettino a Roma e anche in collaborazione con Elisabetta Carlini oltre alle persone che ci hanno già di studiare questi problemi accoppiando il network a quello che chiamo che abbiamo chiamato il grafo sottostante quindi il grafo è un oggetto più astratto dove i vertici sono gli stessi non è più immerso in RN i vertici sono gli stessi ma gli edge diventano in un certo senso delle copie astratte degli archi cioè sono delle connessioni astratte che possono esserci non esserci essercene una due tre insomma sempre un numero finito tra i vertici questo è il grafo sottostante poi c'è dato gamma legge corrispondente e p di gamma eccetera e nel discorso che facciamo consideriamo curve assolutamente continue su n e il gli oggetti corrispondenti su gamma sono queste path che sono una successione finita di edge diciamo concatenati questa è la condizione di concatenazione da tenere conto che t è il il vertice terminale di un edge mentre o è il vertice iniziale dell'altro concatenazione una miltoniana è una famiglia finita di amiltoniane finite ora sul network che sono hanno indici sugli altri sono associate ad ogni arco e diciamo la peculiarità di questa amiltoniana della teoria sviluppata è che le amiltoniane archi con supporto diverso sono totalmente scollegate questa è la cosa fondamentale questo crea delle discontinuità diciamo naturalmente e lo scopo delle teorie delle equazioni che si studiano è nonostante le discontinuità di ottenere comunque soluzioni uniche soluzioni continue sul network queste sono le ipotesi classiche che si mettono sui vari h gamma poi si scrive questa è diciamo l'equazione di amilton jacobi dipendente diciamo dal tempo in realtà sono una famiglia di equazioni non correlate e quindi come soluzione si intende una funzione continua tale che v composto gamma s è soluzione in ogni gamma naturalmente il problema se diamo una condizione iniziale è sottodeterminato perché non ci sono condizioni diciamo laterali quindi le soluzioni sono infinite ma c'è una diciamo tecnica che ora non posso descrivere perché non c'è tempo si aggiungono condizioni opportune su questi su queste interfacce dove c'è discontinuità il passaggio da un vertice a un altro per avere diciamo unicità per avere unicità delle soluzioni bisogna oltre al dato iniziale prescrivere anche un flux un flux limiter a ogni vertice il flux limiter è una costante che si prescrive ad ogni vertice ora cercherò di spiegare dal punto di vista diciamo lagrangiano cos'è il flux limiter perché è più semplice va bene questo quest'idea del flux limiter in quest'ambito applicata in questo è stato introdotto da Ember e poi c'è anche un contributo mio un punto di vista diciamo sempre un risultato diciamo di confronto e di stabilità anche con un approccio un po' diverso rispetto a qui di Ember ma no ma sempre facendo uso del flux limiter va bene ora passiamo a L gamma la lagrangiana perché il nostro scopo è quello di definire funzionale d'azione ora la differenza è che mentre le H gamma sono completamente scollegate dobbiamo mettere qualche condizione di incollamento su L gamma perché vogliamo diciamo definire un funzionale d'azione e quindi complessivamente questo si fa in maniera piuttosto standard si ottiene una lagrangiana semicontinua inferiormente ed ecco come appare il flux limiter cdx è il flux limiter meno il flux limiter e sostanzialmente bisogna prescrivere oltre alle condizioni iniziali il costo della sosta in un vertice ecco se noi prescriviamo il costo della sosta in un vertice a meno di un segno quello è flux limiter e allora per ogni costo ammissibile c'è una condizione di ammissibilità che non spiego allora effettivamente condizioni iniziali costo ammissibile la soluzione effettivamente è unica e quindi ecco qui il funzionale d'azione ed ecco qui che è il funzionale d'azione si accoppia con l'evoluzione di Hamilton si accoppia nel senso che c'è una formula di Lacks o Leinic tipo quella che ho fatto vedere prima nel caso di varietà compatte che descrive l'unica possibile soluzione questo è stato osservato in un caso particolare a caso di una junction condizione un po' restrittiva da Amber Monno Zidani e poi più recentemente in un articolo di collaborazione con Pozza abbiamo fatto per vedere che insomma su un'ipotesi abbastanza più generale questa forma di Lacks o Leinic va bene quindi noi questo funzionale d'azione lo abbassiamo sul grafo è opportuno abbassarlo sul grafo per fare questo abbiamo bisogno di una di una parametrizzazione sul grafo ecco il funzionale d'azione che fa Cia Cia e per risultati che non ho tempo di spiegare ora la parametrizzazione diciamo le parametrizzazioni ottimali per realizzare questo e sono quelle vedete in cui semplicemente c'è una condizione per cui cui che va interpretato come una specie di velocità media con cui si percorre l'edge e l'inverso moltiplicativo del tempo quindi tempo e velocità sono un inverso moltiplicativo dell'altro se la velocità è diverso da zero e invece è più generale se la velocità fosse uguale a zero quindi fosse un tempo di distanza ma qualsiasi tempo positivo ricordate che in questo caso interviene il flux limiter in zero va bene quindi ci sono credo che riesco a fare vedere queste due cose prima di tutto c'è l'idea del lift come noi abbiamo fatto il lift da RN da Z da TN a RN nel caso nel caso dell'omogizzazione periodica qua dobbiamo fare un lift dello stesso tipo qui c'è una diciamo una parte più geometrica non c'è lo stesso della teoria dobbiamo fare non covering space meglio covering network nel caso TN e RN e il covering è dato a come vertici gli stessi vertici del netto iniziale V moltiplicati ZM dove M è quella dimensione geometrica iniziale che ho fatto vedere diciamo all'inizio quindi si lavora gli archi sostanzialmente sono gli stessi archi di gamma e più si aggiunge diciamo un segmento chiamato eta che unisce diciamo i due punti di ZM e abbiamo questa estensione diciamo per periodicità va bene questa è diciamo qui quindi qui sono diciamo definiti gli epsilon problemi le equazioni approssimate sono qui e poi ci sarà anche qui una equazione limite dove comparirà un tono effettivo diciamo da definire e questa è definita in RM dove M è sempre la dimensione geometrica che ha fatto vedere nelle prime slide va bene qui è spiegato come va interpretata la convergenza delle funzioni sono funzioni su spazi diciamo diversi si usa fondamentalmente il fatto che RM V per ZM cioè RM che sono i punti in cui è posta l'equazione limite e i vertici per ZM sono isometrici in una scala a meno su una scala larga si usa questa isometria qui andrei più veloce e quindi arrivo al vettore diciamo di rotazione vogliamo dare questo vettore di rotazione questo qua ed è più comodo più semplice darlo non su una curva ma su una pat che è l'equivalente della curva che è definito in sul grafo sottostante va bene però qua è questo che voglio mostrare va bene per fare questo ecco si fissa quello che si chiama un albero massimale in gamma gamma il grafo sottostante questo è un sottografo che non ha cicli triviali e contiene tutti i vertici di gamma quindi soltanto tutti i vertici di gamma sono contenuti nel nell'albero per esempio per dire se noi pigliamo un triangolo allora se togliete qualsiasi diciamo lato ecco questo qui è un albero massimale vedete contiene tutti quanti i vertici ma non contiene nessun ciclo banale i cicli non banali sarebbero quelli quando vado avanti e indietro sullo stesso arco ecco questo qui è diciamo l'esempio di un tri massimale o spanning anche si si chiama allora a questo punto sostanzialmente c'è un'idea elettrica dietro ecco se riesco a rendere la chiara so contento e cioè ad ogni ad ogni edge che appartiene a E ma non appartiene a T quindi in questo caso a quest'unico edge io associo l'unico circuito che si ottiene con E con questo che ho preso e per il resto solo edge diciamo contenute nell'albero massimale quindi sarebbe come qui piglio questo e associo questo circuito qui 1 in questo caso la dimensione è 1 l'interpretazione elettrica è questa nell'albero T non c'è flusso di elettricità perché non ci sono circuiti non triviali però se io piglio qualsiasi edge fuori da T qualsiasi edge fuori da T per la massima di T permette di chiudere un circuito quindi di far passare l'elettricità lungo un unico circuito e questo circuito è theta E va bene ecco qui quindi sostanzialmente questo theta si ottiene si estenda ad una mappa tra gli edge di gamma e il gruppo abeliano su circuiti che ho descritto prima che ha quella dimensione geometrica M quindi è isomorfo a ZM e questo è il vettore diciamo di rotazione quindi diciamo sostanzialmente questa è la il nuovo problema diciamo variazionale che diciamo considero con l'idea di passare poi al limite quindi vedete alla minima diciamo azione io ci aggiungo un ulteriore constraint che è dato dalla prescrizione del numero diciamo di rotazione questo in un certo senso è ben posto anzi il comportamento diciamo asintotico vedremo non dipende da X e Y non dipende semplicemente da H ecco qui e in effetti questo questo problema che ho scritto è equivalente al problema di minimazione classica ma per curve sollevate sul covering network quindi i due problemi sono totalmente più varianti va bene sì bene allora questo non lo faccio peggio per voi ecco scusate va bene ed ecco sostanzialmente diciamo almeno la generalizzazione ecco mi presentate mi premeva far vedere questo poi c'è anche un risultato di omogenizzazione ma quello diciamo è una generalizzazione abbastanza puntuale di quello che si sa nel caso classico questo è più interessante e credo sia la parte più nuova nel senso vedete si studia il comportamento asintotico quindi sostanzialmente T pensate che tende all'infinito quindi 1 su T sarebbe epsilon che tende a 0 del problema con constraint e di un problema limite data da questa funzione beta che non ho fatto in tempo diciamo a descrivere però questa funzione beta è essenzialmente il duale della miltoniana effettiva di una generalizzazione della miltoniana effettiva quindi vedete questi funzionali d'azione che probabilmente danno la funzione valore delle soluzioni degli 1 su T problemi converge verso questo beta questo beta la forma di off-lux quella diciamo classica dà la formula di diciamo rappresentazione per l'equazione di Hamilton Giacobbi in cui compare questo è conversa beta il duale convesso di beta che non è altro che h barra e quindi moralmente questo è quello che ci dice che gli epsilon problemi convergono a questo problema ecco il convex duale beta ed ecco questo è il teorema finale di omogenizzazione grazie scusate sono stato un po' di fretta grazie 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 Antonio molte osservazioni commenti domande di ho ben capito come viene cioè la dimensione M che poi diciamo in cui immerge il problema per esempio se uno prende proprio un network banale con due per ecco in questo caso per esempio uno ma come perché si passa da quello a ZM non ho capito perché ecco si passa si passa a ZM perché a un certo punto questo vettore diciamo vettore di rotazione deve essere un vettore no? è un vettore diciamo di nume deve essere diciamo un valore numerico allora si considera il il gruppo abeliano libero costruito su questo tizio qui quindi il gruppo abeliano libero costruito semplicemente la informazione diciamo è dimensionale siccome qui il ciclo ciclo fondamentale così chiamato è uno allora se costruisco il gruppo libero Z se passo al limite su Z vado a R è chiaro quindi questo è un pochettino la cosa devi diciamo associare all'oggetto all'oggetto geometrico che è il ciclo un oggetto diciamo algebrico l'informazione fondamentale è la dimensione che poi al resto su Zm Zm e Rm non c'è torsione naturalmente il problema limite questo che hai scritto anche nel cui proprio è in quale spazio è definito è definito in R con la dimensione di quel gruppo là siccome per esempio c'è un solo ciclo fondamentale allora la dimensione è R quindi il problema è definito in R cioè in altri termini la funzione beta che sarebbe la lagrangiana effettiva e la miltoniana effettiva sono definiti in R quindi quando tu passi al limite diciamo naturalmente il problema che se metti se cominci diciamo a complicare il grafo allora diciamo la dimensione però è una dimensione puramente geometrica che è semplice quella forma numero degli edge senza senza distinguere tra cose meno numero dei vertici e poi in generale sarebbe più numero delle componenti connesse in questo caso uno e questo quindi dipende da quanto le traiettorie possono girare sul network in qualche modo esatto 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 perché tu prendi quanti cicli fondamentali possono fare sul network nel collegare i due punti quindi la cosa fondamentale il risultato di Mater che non conta tanto dai x e y ma in effetti la minimizzazione in definitiva la fai su questo h su questa informazione in più ed ecco perché al limite poi va nello spazio degli h lo spazio degli h sarà rm dove m è la dimensione di questo spazio questa è l'idea cioè è chiaro che nel modello che consideri tu è tutto voglio dire la dimensione è uguale alla dimensione dell'embedding space tu non vedi diciamo come nel nel caso se tu pigli il caso diciamo del del toro anche qui il covering space ha la stessa dimensione è chiaro che se se prendi una varietà diversa allora può può venirti un cover di spese dimensioni diverse eccetera quindi questa è l'idea in più Jacomo tra l'altro è stato il mio controrellatore alla tesi è stato il mio controrellatore alla mia tesi pure non mi sto vendicando no 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 stavo pensando a una possibile generalizzazione magari per esempio in grafiche o in network che sono immersi o embedded dentro al predio spazio metrici in generale perché mi stava venendo in mente che sono un cono a livello geometrico l'omogenizzazione in teoria funziona bene per il cono tangente alla fine per l'omogenizzazione non c'è bisogno di una struttura vettoriale no no sono d'accordo assolutamente quindi stavo pensando si può estendere una cosa di questo tipo cioè al naso come lo dici tu credo di sì perché dici bene non è che la struttura vettoriale che si usa alla fine quella che in drogo è la struttura diciamo metrica appunto la struttura metrica e poi la possibilità di costruire questi gruppi liberi però sai il gruppo libero pigli un numero finito di oggetti e lo costruisci subito insomma quindi sì sto d'accordo potrebbe essere uno sviluppo senz'altro da considerare non mi sembra ci siano ostruzioni a farlo poi come esempio Mariana ne metti a farlo scoppi un casino grazie grazie a te mi sentono benissimo anche senza che è Claudio Marchi anche lui di Padova abbiamo due su quattro stamattina che ci parlerà di first order minfield games on networks grazie innanzitutto per ringraziare gli organizzatori della conferenza che Paola Christian e Alessandro ok per organizzare questa conferenza molto carina molto utile e funzionale oggi parlerò di minfield games sul network del primordine e questo di fatto è un lungo progetto di ricerca che stiamo portando avanti con Niva Jdou dell'Università di Parigi Paola stessa e Nicoletta Ciud dell'Università di Renna Il piano di questo seminario sarà sostanzialmente diviso in tre parti una introduzione cortissima ai minfield del primordine nell'ambito euclideo giusto per utilizzarli come termini di paragone per sapere quello che è ragionevole aspettarsi sui minfield sui network e quello che non è assolutamente ragionevole aspettarsi sui network dopodiché darò la mia nozione di network che più o meno coincide con quella di Antonio ed esattamente quella di Fabio di ieri introdurrò i problemi che abbiamo effettivamente studiato e i nostri risultati almeno parzialmente perché questo è un progetto di ricerca che sta andando avanti da un po' di tempo con Yves Paola e Nicoletta e stiamo ancora andando avanti e in effetti alcuni di questi risultati sono stati già presentati nel qualche seminario tenuto da noi precedentemente alla fine se mi rimane ancora un minuto o due vorrei parlare di altri problemi sempre minfield del primordine sui network che intendiamo studiare nel futuro ok brevissima introduzione ai problemi del primordine minfield nell'ambito euclideo la teoria minfield è stata introdotta dalla Svier Leons 17 anni fa e indipendentemente da Juan Malamin Keynes lo scopo è quello di descrivere il comportamento di una popolazione con infiniti agenti dove ciascun agente è razionale indistinguibile e può essere negletto l'azione cioè il 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 comportamento di ciascun agente è influenzato dal comportamento di tutti gli altri questo significa che istantaneamente l'agente ha una posizione che si muove nel nel nello spazio di quello d'RD si può muovere come vuole può scegliere istantaneamente la propria velocità e sceglierà istantaneamente la propria velocità in modo tale da avere una traiettoria che minimizzi un costo il costo è questo qui scritto qua giù in fondo qui abbiamo un tempo orizzonte di tempo finito T maiuscolo la prima parte è un classico costo cinetico che penalizza le alte velocità la seconda parte è un costo corrente la terza parte è un costo finale costo corrente e costo finale dipendono dalla distribuzione a quell'istante di tutto il resto della popolazione se uno va a vedere se uno ha un problema di questo tipo con n giocatori gli equilibri di Nash sono caratterizzati da un sistema di due n equazioni e le derivate parziali ma la cosa che ci interessa è che quando il numero di giocatori tende a infinito allora questo sistema si riduce a un sistema di solo due equazioni che in realtà il sistema infilde che ci interessa veramente il sistema infilde è fatto da due equazioni differenziali la prima è un'equazione di tipo Hamilton-Giacobi retrograta nel tempo la seconda è un'equazione di tipo continuità in avanti nel tempo la soluzione della prima equazione è la U ed è la funzione valore per il generico giocatore la soluzione della seconda equazione è la distribuzione dei giocatori che dipenderà dal tempo chiaramente queste due equazioni sono accoppiate con un costo finale per la U che è dato dal problema dal costo che ho scritto prima e da una distribuzione iniziale dei giocatori M0 quindi chiaramente M0 deve essere una probabilità sullo spazio da cui siamo partiti ok questo in realtà è stato fatto in qualche lezione di Lyons al Collège de France si può trovare più facilmente sulle note scritte da Pierre Cardellaguet questo sistema che è il sistema a cui appunto siamo interessati ammette una soluzione c'è una coppia U e M dove U è una soluzione della prima equazione in senso viscoso M è una soluzione della seconda equazione in senso distribuzionale e inoltre U ed M hanno delle proprietà che diciamo a cui io sono particolarmente interessato in questo in questo talk la prima è che U è localmente Lipschitz la seconda è che M in effetti è una funzione continua da 0T nello spazio più 1 ok qui lo spazio più 1 è lo spazio delle misure sullo spazio di Cluedero che abbiano il primo momento finito e la cosa che mi interessa in effetti è che M abbia ad ogni istante M abbia una densità e che questa densità sia limitata sempre ok queste proprietà mi serviranno nel futuro come termine di confronto ok cosa vogliamo fare noi sostanzialmente studiare lo stesso problema ma questa volta quando il lo stato del giocatore deve rimanere su un network breve nozione di network esattamente la nozione che ha dato Fabio ieri il network per me è un oggetto che sta in qualche spazio rd è formato da un po' di punti che sono semplicemente dei punti nello spazio questi punti sono connessi da curve curve regolari che partono da un vertice all'uno all'altro sono parametrizzabili e due curve si possono intersecare solo ad un vertice ok una volta che ho questa definizione di network per noi posso completare una breve panoramica sulla letteratura che mi interessa fare ok a parte l'approccio all'alliance e alla cardella gay diciamo il cosiddetto approccio classico nei main field c'è anche quello che mi interessa descrivere è quello cosiddetto approccio lagrangiano l'approccio lagrangiano detto in maniera molto rapida contrariamente all'approccio classico dove il gioco viene descritto come una misura che dipende dal tempo nello stato degli spazi nell'approccio lagrangiano tutto il main field tutto il gioco main field viene descritto da un'unica misura sull'insieme delle traiettorie emissibili questo approccio lagrangiano nell'ambito main field è stato cominciato da benamore in carlie otto anni fa e poi è stato applicato con pieno successo da cannarsi e capuani e poi cannarsi e capuani in cardella gay per il caso di main field con vincoli di stato nel loro caso lo state constraint cioè il vincolo di stato era che lo stato del giocatore dovesse rimanere all'interno della chiusura di un aperto regolare e limitato e questo chiaramente non è il caso di un network nella definizione che ho dato nella slide precedente quindi non si può applicare direttamente il loro risultato piccola osservazione detto in maniera spero che per Marco non me ne voglia detto in maniera molto rapida il loro programma qual è stato? Per prima cosa hanno trovato questa soluzione questa nozione questa soluzione molto debole dei main field cioè un main field equilibrium una probabilità nell'insieme delle misure una probabilità scusate sull'insieme delle traiettorie ammissibili e una volta che hanno trovato l'esistenza di questa soluzione molto debole sono stati in grado di ricostruire riottenere in qualche modo il sistema di equazioni differenziali all'alliance che vi ho mostrato prima quindi questo in effetti è anche il nostro programma piccolo commento sui main field sui network main field sui network sono stati già studiati ma solo nel caso del secondo ordine nel caso del secondo ordine abbiamo una forte regolarizzazione data dall'Aplaciano oppure un caso unico per primo ordine ma traducendo il problema con l'equilibrio di Wardrop e questo è completamente un altro tipo di problemi ok finita questa breve carrellata sulla letteratura posso tornare al nostro problema in effetti per il nostro problema si può direttamente studiare il caso di un network stellato dove il network stellato è formato da un unico vertice e da n semirette che partono da questo vertice è il network più facile che possa immaginare ma già questo network mostra tutte le caratteristiche tutti i fenomeni nuovi che abbiamo sul network e non nello spazio euclideo quindi di nuovo abbiamo un sistema un problema di minfield dove ciascun giocatore può scegliere istantaneamente la propria velocità questo significa che il proprio giocatore può andare a qualsiasi velocità esso voglia su ciascun ramo può arrivare nel vertice una volta che viene nel vertice può decidere se fermarsi nel vertice o entrare in un altro o tornare indietro o entrare in un altro ramo assolutamente in maniera arbitraria può fare tutto quello che vuole osservazione che mi interessa nel futuro quando il giocatore arriva nel vertice visto che può scegliere istantaneamente la propria velocità può arrivare nel vertice anche con velocità positiva e uscire dal vertice con velocità positiva ok questo è un piccolo remarco che mi interesserà nel futuro come sceglie il giocatore la propria velocità in modo da minimizzare un costo il costo ha esattamente la stessa struttura di prima parte cinetica costo corrente costo terminale ma adesso mi focalizzo un attimo sul costo corrente L calligrafico il costo corrente L calligrafico ha questa struttura cosa significa questa struttura significa che quando il giocatore occupa una posizione X che sta nel ramo iesimo quando dico che sta dentro il ramo iesimo vuol dire che sta nel ramo iesimo ma non sta nel vertice allora paga il costo LI quando sta nell'origine nel vertice paga il costo L0 dove nel costo L0 è naturale prendere il costo L0 con questa struttura e noi qui abbiamo anche messo una complicazione che nel costo L0 comparino tutti i costi LI cioè tutti i costi che vedo su ciascun ramo più un costo L star il costo L star appare per la prima unica volta all'interno al vertice quindi è la stessa struttura l'abbiamo sul costo terminale G maiuscolo no assolutamente no quindi è naturalmente e intrinsecamente naturalmente discontinuo di fatto sì sì però lo posso scegliere sì perché è naturale prendere il mio se no devi passare al problema ok quindi in questo modo di fatto il fenomeno nuovo che appare è che sia il costo corrente che il costo finale sono discontinui nell'origine cosa succede a questo punto quello che possiamo dimostrare è che una singolarità nella distribuzione degli agenti può apparire immediatamente dopo l'istante iniziale e questo chiaramente già ci pone al di fuori della situazione all'Alliance Cardellaghe perché loro avevano una distribuzione limitata noi possiamo avere una distribuzione in cui compare una singolarità subito immediatamente ok possiamo anche dimostrare che una volta che nel vertice compare questa singolarità questa singolarità non solo sta nel vertice può decidere di muoversi all'interno dei rami quindi questa singolarità può fare un po' quello che vuole in effetti si può anche dimostrare che quando si muove nel ramo la singolarità si muove nel ramo può anche stare ferma ma non può né crescere né diminuire cioè la singolarità si forma e potenzialmente può anche scomparire solo nel vertice perché questo perché quando la singolarità sta nel ramo allora vuol dire che sta in un punto dove ci passa una traiettoria ottima se sta in un punto dove ci passa una traiettoria ottima la traiettoria è unica e quindi non può né essere non può essere né punto dove ho un pozzo di traiettorie né un punto dove si mi si sparpagliano tipo delta di dirac ok giusto per far vedere proprio il caso in realtà l'esempio per far vedere che compa una singolarità è abbastanza facile ve lo mostro caso facilissimo un network formato da solo due rami j1 e j2 attaccati all'origine il costo finale è zero dappertutto quindi di fatto è irrilevante sul gioco nel costo il costo corrente nel ramo g1 questo 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 disegno mostra il il grafico del costo corrente nel il costo corrente nel ramo 1 è molto più economico del costo corrente nel ramo 2 e la distribuzione iniziale dei giocatori è nella nel primo intervallo nel costo nel ramo 2 ok quindi tutti i giocatori stanno qui e qui è il posto dove dove il costo corrente è più economico la cosa ragionevole è quello che effettivamente fanno i giocatori che partono da qui vanno nell'origine e si fermano si può dimostrare che il tempo che serve al giocatore partendo da qui per raggiungere l'origine è proporzionale alla distanza rispetto all'origine quindi immediatamente dopo l'istante iniziale si forma una costante con la distribuzione dei giocatori ha una costante una delta di dirac nell'origine e dopo un po' di tempo tutta la popolazione è concentrata nell'origine ok questo come dire ci ha spinto a scegliere l'approccio lagrangiano ci ha spinto a scegliere l'approccio lagrangiano e per l'approccio lagrangiano vi ricordo che l'approccio lagrangiano il primo step è quello di descrivere tutto il gioco con un'unica probabilità sullo spazio delle traiettorie ammissibili quindi prima cosa che mi serve è lo spazio di traiettorie ammissibile gamma maiuscolo scegliamo le traiettorie ammissibili nello spazio W1-2 perché abbiamo la parte cinetica del costo che inevitabilmente mi spinge a chiedere che le traiettorie ammissibili siano qua dentro gamma maiuscolo di x sono le traiettorie ammissibili che partono di x P di gamma come si usa denotarlo è l'insieme delle misure su gamma poi ho bisogno della mappa di valutazione che è una mappa parametizzata al tempo che è una mappa che va da gamma l'insieme delle traiettorie ammissibili al network che associa ciascuna gamma associa il punto occupato dalla traiettoria all'istante gamma PM0 di gamma in effetti è uno spazio molto importante perché di fatto cercherò qua dentro cercherò qua dentro la mia soluzione del problema in field sono le misure sull'insieme di traiettorie ammissibili il cui push forward attraverso la mappa di valutazione coincida con la distribuzione iniziale ok adesso dato una misura in PM0 di gamma a questa misura possiamo associare un costo che ho scritto qui questo è esattamente il costo di prima dove invece di mettere la vera distribuzione dei giocatori metto il push forward di eta attraverso la mappa di valutazione una volta che ho un costo posso considerare l'insieme delle traiettorie ammissibili che siano ottime rispetto al costo stesso ed è denotato come gamma eta di x queste sono le traiettorie che partono da x e sono ottime rispetto al costo associato ad eta un piccolo lemma tecnico ma che di fatto ci servirà molto è che come prendo eta e come prendo x esiste sempre almeno una traiettoria ottima ok o mi serve l'esistenza delle traiettorie ottime ok adesso possiamo definire il minfield game equilibrio come una misura in PM0 di gamma quindi una misura in qualche modo sullo spazio delle traiettorie ammissibili il cui supporto sia contenuto nell'insieme di tutte le traiettorie ammissibili che sono ottime per il costo associato ad eta almeno per le x che partono dal supporto di M0 ok primo risultato che abbiamo il primo risultato che abbiamo è l'esistenza di questo minfield equilibrio questo ammesso che abbiamo supposto che M0 abbia supporto compatto tutti i costi corrente tutti i costi finali abbiano una qualche regolarizzazione abbastanza debole perché dovrà stare in C0 ok qui ho scritto ho scritto tutto il network in realtà il costo corrente LI mi interessa solo la parte che sta sul ramo GI non assumerò mai che il costo corrente è continuo sul network il costo corrente sarà sempre genuinamente discontinuo sul network e anche il costo finale ok breve qui di fatto la dimostrazione è praticamente presa dall'articolo di Piermarco e Capuani individuiamo un opportuno sottinsieme compatto di PM0 di gamma che indichiamo con la k calligrafico introduciamo una funzione multivalore da k in k che associa ad ogni elemento di k calligrafico associa l'insieme di tutte le misure il cui supporto è contenuto nell'insieme delle traiettorie ammissibili che siano ottime per eta almeno per le x che partano dal supporto di M0 otteniamo l'esistenza della soluzione utilizzando il termo di punto fisso di Caputani un termo di punto fisso una volta che abbiamo dimostrato queste tre proprietà da notare qui non l'ho scritto perché tanto sapevo che non avevo tempo che da qualche parte devo avere che questa mappa in maiuscolo ha una qualche proprietà di grafico chiuso per avere questa proprietà di grafico chiuso di fatto ci serve che riusciamo ad approssimare le traiettorie e per riuscire ad approssimare le traiettorie questo ci serve avere una qualche forma di controllabilità di forte controllabilità per le traiettorie ci tornerò su questo punto alla fine ok a questo punto quello che intendiamo fare è procedere nel tentare di costruire il sistema di equazioni differenziali di Lyons e Cardellaghe prima di fare questo un lemma tecnico che in effetti non c'entra praticamente nulla con i mean field è semplicemente una questione di teoria del controllo se assumiamo continuo ad assumere che sia il costo corrente sia il costo finale sono discontinui nel nel network ma che all'interno dei rami siano C2 cioè ramo per ramo sono C2 ma si attaccano male nel vertice allora si può dimostrare che tutti i controlli ottimi sono limitati uniformemente limitati e conseguentemente che tutti tutte le traiettorie ottime sono in effetti Lipschitz continue questo è una cosa che ci servirà nel futuro breve cenno sulla dimostrazione ok se per gli intervalli di tempo in cui la curva ottima sta all'interno di un ramo beh utilizzo la uno-dimensionalità del ramo e posso scrivere l'equazione di Leroy-Lagrange la curva ottima è regolare idem per quando la curva ottima termina in un ramo caso carino e interessante è quando la curva ottima passa due volte per l'origine questo vuol dire che passa nell'origine un certo istante se ne va in giro per un ramo e poi torna nell'origine quando nell'intervallo di tempo in cui va in giro per un ramo deve essere per forza regolare per il punto 1 posso applicare Leroy-Lagrange quindi è regolare ci sarà un punto terminale punto lontani più lontano possibile dall'origine in cui è adderivato a 0 e poi torna indietro quindi una volta che trovo un punto in cui è adderivato a 0 riesco a stimare il controllo ottimo su tutto l'intervallo il caso più difficile in effetti da dimostrare è il caso 4 quando la curva ottima parte in qualche punto dentro un ramo e dopo un po' finisce nel vertice qui lì abbiamo dovuto fare tutta una casistica costruire tutti i competitori a seconda di quello che combina la curva ottima dopo che essere stata nel ramo in realtà questa è la parte più complicata della dimostrazione ok posso andare avanti a questo punto abbiamo una soluzione un infil d'equilibrio posso definire mild solution come una coppia um data una mild solution una mild equilibrium um u è la funzione valore associata ad eta ed m è semplicemente il push forward di eta rispetto alla funzione della mappa di valutazione ok corollare immediato il tema 1 mi dice che ho l'esistenza di un infil d'equilibrium corollare immediato ottengo subito che ho una mild solution se assumo anche le ipotesi del tema 2 cioè che il costo corrente e il costo tre finale sono più regolari all'interno dei rami allora posso dimostrare che m in effetti non sono una m non sono una funzione da 0 t nello spazio delle probabilità sul network ma una funzione lipschitz da 0 t sullo spazio delle probabilità sul network e soprattutto ritrovo la locale lipschitzianità della U almeno lontano dal tempo finale ma qui non sto assumendo che G finale è lipschitz continua ma se G finale è lipschitz continua becco anche la lipschitzianità di U fino al tempo finale esattamente come nel caso di Lyons e Cardellaghe adesso domanda naturale ho una funzione valore U di un qualche costo e U per di più con una buona come dire una buona regolarità domanda naturale riesco a definire un'equazione di Hamilton Giacobbi sul network di cui U è soluzione la risposta è sì in effetti qui noi non abbiamo aggiunto granché alla teoria c'è una teoria consolidata di equazioni di Hamilton Giacobbi sui network che è cominciata più o meno nel 2013 da tre articoli quasi in contemporanea Ashdou Camille Cotriciu Amber Monod Zidani e Camille Schibborn ne ho elencati altri questo famoso di Amber Monod che è lo stesso che ha citato Antonio lavori di Antonio lavori di Morfe Lyons Suganidis in effetti tutti questi che ho elencato qui nessuno di questi contempla esattamente il nostro caso a tutti manca qualcosina quindi in effetti la cosa che abbiamo trovato più facile da fare è prendere quello di Amber Monod e aggiustarcelo rispetto alle nostre ipotesi mancava veramente poco ok quindi per per l'operatore di Hamilton Giacobbi innanzitutto devo definire quelle che saranno quello che sarà l'insieme delle mie funzioni test l'insieme delle mie funzioni test è questo insieme C1 su tutto il network che sono funzioni che sono continue su tutto il network quindi si attaccano bene sul vertice ma le cui derivate sono regolari ma che è derivabile solo ramo per ramo le derivate presentano la discontinuità una volta che prendo la funzione phi in C1 allora posso definirne la derivata la derivata è chiaramente la derivata è la classica derivata unidimensionale su ciascun ramo se l'X sta sul ramo ma è la tutte le n possibili derivate rispetto a tutti i rami entranti quando X coincide con il con il vertice quindi attenzione che è un oggetto unidimensionale in un caso è n dimensionale dell'altro ok a questo punto posso definire gli operatori di Hamilton Jacobi chiaramente per avere un operatori di Hamilton Jacobi devo avere a monte un costo e per avere un costo devo essere ancora più a monte devo essere partito da un midfield equilibrium quindi devo partire da un midfield equilibrium eta considero il costo associato da eta e posso definire il operatori di Hamilton Jacobi all'interno del ramo è il classico operatori di Hamilton Jacobi che mi aspetto nulla di più nulla di meno sul vertice mi interesserà avere anche questo che è il cosiddetto decreasing envelope l'inviluppo decrescente rispetto a P l'operatore di Hamilton Jacobi è semplicemente una parabola la parte decrescente è esattamente la parabola rispetto a P finché non arriva nel punto di minimo e poi rimane sul punto di minimo ci tornerò su perché abbiamo bisogno di questo questo inviluppo decrescente ok a questo punto posso scrivere il problema di Hamilton Jacobi associato il problema di Hamilton Jacobi associato in effetti prende due scritture abbastanza differenti a seconda che la x sia dentro un ramo oppure che la x coincida con il vertice quindi questo non è il sistema infield è solo l'Hamilton Jacobi del sistema infield dove l'operatore nel vertice a sua volta lo scrive in questo modo ok questo di fatto è quello che in Amber e Monod era il ruolo del flux limiter detto in maniera molto rozza però che dà un senso a questo perché qui io vedo L0 e l'inviluppo decrescente di tutti gli H con I è questo quando il giocatore raggiunge l'origine raggiunge il vertice ha due possibilità la prima possibilità è rimanere nell'origine e in quel caso se rimane per un po' di tempo nell'origine finirà a pagare il costo L0 che è il costo corrente nell'origine la seconda possibilità è che il giocatore entri in un ramo ma se entra in un ramo lui deve scegliere una velocità che punta verso dentro il ramo non può scegliere la velocità opposta perché altrimenti uscirebbe dal network e questo mi dà luogo al fatto che qui io non veda gli operatori di Hamilton a Giacobbi nella loro interezza ma solo il loro inviluppo decrescente perché deve entrare nel ramo a questo punto ho la soluzione di la definizione di soluzione di viscosità con funzioni test che toccano dall'alto e dal basso e chiaramente a seconda che toccano dall'alto al dal basso in un punto interno ad un ramo o nel vertice devo utilizzare la prima o la seconda equazione e a questo punto proprio con una piccola adattamento del risultato di Amber Monod abbiamo trovato che la funzione valore è soluzione dell'Hamilton Giacobbi quindi fino adesso abbiamo riottenuto un po' di regolarità della U abbiamo riottenuto l'Hamilton Giacobbi chiaramente in questa scrittura da da network mancherebbe l'equazione di continuità del sistema di Lyons e Cardellaguet in effetti ancora non l'abbiamo ottenuta abbiamo buone un'idea che sembra funzionare ma che ancora non ho potuto scrivere per controllare nei dettagli quindi non la presento sembrerebbe però funzionare e otterremo anche un'equazione per l'equazione di continuità riottenendo più o meno tutto il sistema del di Lyons e Cardellaguet chiaramente esattamente come nell'articolo di Piermarco l'equazione di continuità non ce l'ho dappertutto ma solo dove la m è diversa da zero quindi ok giusto l'ultimo minuto mi sono lasciato per descrivere un problema che intendiamo analogo che intendiamo studiare nel futuro fino adesso ho considerato sia nel caso del sia nel caso dell'euclideo sia nel caso del network la situazione in cui il singolo giocatore può scegliersi istantaneamente la propria velocità questo non è molto realistico è molto più realistico che il singolo giocatore possa scegliersi la sua velocità solo tramite l'accelerazione cioè di fatto controlli l'accelerazione ma non controlli la velocità ancora più realistico è considerare la situazione in cui controlli l'accelerazione con qualche limitazione sull'accelerazione stessa quando io voglio frenare non posso frenare istantaneamente ho bisogno di un tempo di frenare o spazio di frenata e di un tempo di frenata cosa produce questo per di più sul network lo stato del singolo giocatore non è solo dato dalla sua posizione ma anche dalla sua velocità si perde la locale controllabilità perché se sto andando in quella direzione e voglio andare un centimetro più indietro mi dovrò fermare lentamente e tornare indietro quindi perdo la controllabilità comparirà inevitabilmente un insieme di viabilità perché mentre prima poteva arrivare al vertice con velocità positiva adesso sarei al vertice con velocità positiva semplicemente esco dal dal network e quindi non è più ammissibile quindi questo sembra essere molto più realistico ma con una serie di fenomeni ben difficili da da studiare ok grazie cioè puntualmente vale puntualmente dentro i rami sì questo ce l'abbiamo sul vertice no sul vertice non riusciamo a trovarla là è dentro il ramo sì dentro il ramo non è ce l'abbiamo sì sì in qualche modo il punto il vertice ha un gioco un ruolo intermedio e di fatti il vertice per come anche nel disegno il vertice è un punto all'interno del dominio no cioè è naturalmente un punto all'interno del dominio però in qualche modo gioca un ruolo di bordo perché uno si aspetta che le singolarità si formino sul bordo non solo abbiamo un esempietto in cui c'è una singolarità che si forma in un vertice e poi inizia a gironzolare all'interno c'è su un dominio limitato nello spazio Clideo se non sbaglio c'è un articolo di H2 Han Lasvilli Onsen Mall loro dimostrano c'hanno una c'hanno un infilde su un intervallo e dimostrano che si forma una delta di Divac su un estremo no non mi sembra quando hai legato i lavori che fanno la fine la fine sui netto mi ricordo quando loro uscirono quel l'articolo sembrava che fosse molto meglio della teoria di Ibermonot e di tutte le teorie presenti in quel momento voi invece usate Ibermonot che è un bel matonaccio sì perché dà un'interpretazione controllistica mentre spesso no neanche il Morph che di fatto è più leggibile onestamente Morph Morph è è uno strumento di Sucranitis Morph Morph Ok ah sì no la posto FPL sì però non si adatta alla posto FPL nessuno di questi si adatta ma molti di poco in effetti cioè quello che si adattava di più era l'Ubermonot abbiamo utilizzato quello grazie sì mi sembra che loro prendevano noi abbiamo il costo noi c'è un costo più limitato limitato mi sembra limitato mi sembra non ci gioirei pronunciano l'alfa 4 mi sembra non esserlo l'alfa 4 mi sembra fosse quello il punto che il costo la parte cinetica questo mi sembra che avessero questo e poi prendere un'ipotesi di 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 conversità fra costo corrente e costo finale che noi non avevamo infatti diciamo di parte che dovessi da un che si abbiamo un che è la questa risoluzione con il titolo di parla e ma questo eritice palestra in effetti quello secondo me sistema globalmente almeno la speriamo che comprenda anche il vostro caso io dovrebbe essere mi compreso 600 panni sì 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 no è anche con la questione della convenzità che non c'avevamo mi sembra commenti o domande abbiamo cinque minuti di tempo per fare il cambio di con la prossima grazie grazie ciao allora la nostra prossima speaker è Francesca Anceleschi dell'Università Politica delle Marche e ci parlerà di gli perspektivi con relativisti come varo per plan per buongiorno a tutti intanto ringrazio gli organizzatori per questo invito che ho accolto con molto piacere io di solito mi occupo di teoria della regolarità per operatori di Colmogorov che sono operatori i poellittici e oggi vi vorrei parlare di questo nuovo modello che noi abbiamo proposto con un lavoro recente con Sergio Polidoro e Ana Laura Rebucci come generalizzazione secondo noi molto naturale dell'operatore di Colmogorov al caso della relatività speciale l'operatore che noi proponiamo è l'operatore che vedete qui a sinistra nella figura e praticamente è un operatore del secondo ordine alle derivate parziali per noi py e t sono le nostre tre variabili e abbiamo considerato per ora solamente il caso in cui py e t sono in R3 si potrebbe generalizzare anche al caso in cui py e y variano in R2D però è molto più complicato perché bisogna occuparsi di alcuni prodotti tensoriali tra i vettori e quindi noi abbiamo proposto diciamo un piccolo inizio della generalizzazione ma la teoria non è ancora presente in letteratura d'ora in avanti py nel caso relativistico sarà il momento y la posizione e t il tempo e come vedete qui abbiamo una parte del secondo ordine che è presente soltanto nella prima variabile e poi abbiamo che tutti i termini del primo ordine sono mischiati tra di loro con le derivate nello spazio e le derivate nel tempo il motivo per cui questo secondo noi è un buon modello per il caso relativistico è che viene tenuto conto anche del fatto che il momento incide sulla variabile temporale in qualche senso andando a essere coerente col paradosso dei gemelli per chi di voi ne ha conoscenza il mio obiettivo di oggi sarà per prima cosa fare un confronto tra l'operatore relativistico e l'operatore di Kolmogorov classico dopodiché dimostrare una disuguaglianza di Arnach per soluzioni non negative di questa equazione che chiamerò ldf uguale a 0 quindi l d'ora in avanti sarà sempre l'operatore relativistico e infine di dimostrare dei lower bound asintotici per la soluzione fondamentale cercando anche di giustificare come mai questi lower bound sono così importanti per lo studio di questa tipologia di operatori quindi partiamo dall'operatore di Kolmogorov nella sua versione non relativistica questo operatore è molto studiato è stato introdotto nel 34 da Kolmogorov come strumento fondamentale per andare a caratterizzare la densità di un sistema di particelle che diffondono in un fluido in questo caso py e t rappresentano p la velocità y lo spazio e t il tempo perché nel caso della meccanica newtoniana la velocità è proporzionale direttamente al momento e quindi possiamo con una certa approssimazione andare a considerare sia l'uno che l'altra in questo caso abbiamo che f rappresenta la densità delle particelle nello spazio delle fasi con velocità p posizione y e tempo t e il fluido che stiamo considerando è in equilibrio termodinamico con una peculiarità tutte le particelle che noi utilizziamo come test devono avere una massa molto superiore rispetto a quella delle molecole del fluido perché solo in questo caso non vediamo le interazioni di tipo relativistico e così possiamo utilizzare questa approssimazione inoltre oltre ad aver introdotto il modello Kolmogorov ha anche dimostrato che per questo operatore k esiste una soluzione fondamentale che è tra tutte le soluzioni diciamo per chi di voi non è troppo esperto cerco di riassumere brevemente cosa c'è dietro all'idea di soluzione fondamentale è una soluzione che ci consente di rappresentare tutte le altre soluzioni del problema di Cauchy associato all'operatore quindi una volta che abbiamo la soluzione fondamentale possiamo conoscere tutte le altre soluzioni dato il dato iniziale e il membro di destra diciamo quindi per questo motivo siamo molto interessati alle soluzioni fondamentali quindi k per noi è un operatore del secondo ordine anche in questo caso è molto degenere perché le derivate seconde compaiono soltanto nella velocità p e poi abbiamo un termine del primo ordine che rassomiglia a quello dell'operatore relativistico che proponiamo ma è molto più semplificato questo operatore è stato utilizzato successivamente da Ormander come esempio per la classe di operatori che possono essere scritti come somma di quadrati più un termine di drift e infatti se noi andiamo a considerare questi due campi vettoriali v e t e andiamo a calcolare il loro commutatore otteniamo che viene soddisfatta la regola diciamo del rango dell'Ormander's Rank Condition che in italiano sarebbe la condizione del rango di Ormander infatti l'algebra di Li generata da questi due vettori v e t in ogni punto py e t ha sempre rango 3 che è uguale alla dimensione dello spazio e quindi questo implica automaticamente che K è ipoellittico questo vuol dire che se noi consideriamo K di F uguale a G se G è smooth anche tutte le soluzioni dell'operatore dell'equazione sono smooth quindi la regolarità del dato viene ereditata ok quindi oltre a questa proprietà di ipoellitticità l'operatore K ha anche delle proprietà di infarianza in particolare due la prima è in variante per dilatazioni dove la famiglia di dilatazioni deve essere descritta considerando lo scaling intrinseco dell'operatore se andate ad eliminare la variabile y è considerato solo t e p quello che vi rimane è un operatore parabolico e infatti ritroviamo le dilatazioni paraboliche però abbiamo anche questa variabile aggiuntiva che è la y che si comporta diciamo a metà tra una variabile temporale e una variabile velocità per questo dobbiamo considerare uno scaling al cubo e poi dobbiamo introdurre una famiglia di traslazioni specifica che è questa che vedete che è anche chiamata famiglia di traslazioni galileiane perché se vedete la velocità e il tempo seguono le traslazioni euclidee ma la variabile spaziale si comporta come le traslazioni galileiane che abbiamo studiato ad esempio nel corso di fisica A quindi se noi consideriamo R3 con questa famiglia di dilatazioni e la traslazione che abbiamo definito ritroviamo un gruppo di Li che è omogeneo e che ci consente di definire per ogni punto py di t anche il suo inverso quindi la geometria corretta e che ci aiuta di più nello studio degli operatori di Kolmogorov è quella dei gruppi di Li che ovviamente è una geometria che non è euclidea per questa categoria di operatori e questo mi sarà utile tra poco le disuguaglianze di Arnach sono note ci sono tantissimi risultati sia per quanto riguarda la teoria classica quindi per soluzioni classiche che per quanto riguarda la teoria debole quindi per soluzioni in senso distribuzionale più propriamente l'importante è che noi siamo interessati a ricordarci l'enunciato di una disuguaglianza di Arnach nel caso in cui stiamo considerando il nostro operatore K su dei cilindri che devono essere definiti secondo l'operazione di gruppo che abbiamo appena introdotto e per raggi piccoli compresi tra 0 e 1,5 allora in questo caso esistono due costanti positive CH che è la costante di Arnach e θ che è una costante di riscalamento tali per cui possiamo andare a dire che il sup della nostra soluzione non negativa su un cilindro riscalato è più piccolo della costante di Arnach per la f calcolata in z0 ci sono tantissimi risultati come vi dicevo qui elenco soltanto i più recenti anche perché considerano le ipotesi che noi andremo a verificare per quanto riguarda la dimostrazione della disuguaglianza di Arnach per l'operatore relativistico ovvero consideriamo coefficienti misurabili con coefficienti L infinito poi c'è un ultimo articolo recente che considera il caso più generale questo è il più generale di tutti che abbiamo a disposizione attualmente ma anche questa letteratura precedente ha dei risultati molto interessanti soprattutto nel caso specifico di R3 ok qui volevo semplicemente dire che anche per l'operatore di Kolmogorov non relativistico gli upper e i lower bound sono molti interessanti perché ci consentono di studiare le code il comportamento delle code della soluzione fondamentale quindi ci danno una stima diciamo del comportamento della nostra soluzione sono risultati che sono noti nel caso dell'operatore di Kolmogorov classico infatti c'è tantissima letteratura anche molto recente e quindi a partire da questo perché Sergio Polidoro è un grandissimo esperto di Gaussian upper e lower bounds per l'operatore di Kolmogorov ci è venuta l'idea di chiederci se fosse possibile fornire un risultato qualitativo simile per la soluzione fondamentale dell'operatore relativistico e quindi diciamo questo è un po' per darvi l'idea del punto di partenza della nostra ricerca e veniamo adesso alla versione relativistica del nostro operatore il modello che stiamo considerando che abbiamo considerato fino adesso quello che ho sempre chiamato di Kolmogorov non è coerente con la relatività speciale perché come vi dicevo P che rappresenta la velocità può divergere a più o meno infinito questo non è ammissibile nel caso della relatività speciale perché la velocità deve essere più piccola della velocità della luce in modulo questa è la richiesta e quindi come possiamo risolvere? nel 2011 Alcantara e Calogero hanno proposto un primo modello una prima equazione relativistica che è molto simile alla nostra però l'operatore è leggermente differente perché si ottiene dal nostro operatore L dividendo per la radice di P al quadrato più uno e quindi come vedete davanti al tempo non abbiamo più il contributo del momento e non abbiamo che diciamo questo elemento questa radice è presente anche davanti alla prima derivata in P sì eh ce l'ho oddio non l'ho più scritto è qua più o meno erano la stessa cosa solo che questo qui questo termine non esiste ed è stato diviso quindi questo scompare e fa uno e ci ritroviamo con il termine di trasporto che ha P diviso la radice di P al quadrato più uno quindi sono molto simili però come vedremo tra un secondo hanno delle proprietà molto diverse perché questo operatore L tilde non è un operatore ipoellittico però è coerente con i modelli fisici che ad esempio dunque le anghi hanno proposto per ehm processi stocastici che descrivessero interazioni di particelle soggette alla relatività speciale quindi diciamo che questa prima equazione proposta nel 2011 era buona abbastanza dal punto di vista fisico ma matematicamente non aveva delle proprietà molto utili e quindi la nostra idea è nata dal fatto che quando abbiamo studiato questo articolo di Bonfiglioli e Lanconelli ci siamo resi conto che l'operatore L tilde che è questo qui non soddisfaceva le proprietà di invarianza per traslazione e dilatazione di un qualunque gruppo di lì perché non soddisfaceva la loro condizione la condizione necessaria che loro ponevano in questo caso quindi non avevamo speranze di trovare un gruppo per questo operatore di conseguenza abbiamo proposto quest'altro che è molto simile all'altro in effetti tutte le soluzioni di L tilde di f uguale a 0 sono anche soluzioni di L di f uguale a 0 perché la radice di P al quadrato più 1 è sempre diversa da 0 è positiva però questo operatore L che noi proponiamo a differenza di L tilde precedentemente introdotto è invariante rispetto alle trasformazioni di Lorenz che sono quelle proprie del caso relativistico quindi diciamo che la proprietà più bella e più interessante dal nostro punto di vista di questo operatore L è sicuramente l'invarianza per le trasformazioni di Lorenz questo operatore si può dimostrare che appunto è invariante rispetto a questo gruppo queste sono le traslazioni tenendo conto della geometria che ritroviamo per l'operatore L e esiste anche un elemento identità che è l'origine e possiamo calcolare per ogni PYT il suo elemento inverso quindi possiamo sperare di riuscire ad adattare le tecniche che noi conosciamo per l'operatore di Kolmogorov non relativistico a questo caso relativistico notando anche che questa è una buona generalizzazione anche perché quando il momento P diventa molto piccolo ritroviamo esattamente le traslazioni galileiane e tutte le proprietà dell'operatore di Kolmogorov nel caso non relativistico che è esattamente quello che succede nei modelli fisici ora se noi consideriamo questi campi V quadro e T scritti in questo modo quindi V quadro e quello in blu e T e quello in rosso anche L lo possiamo riscrivere come somma di quadrati più in termine di drift esattamente come l'operatore di Kolmogorov classico e andando a considerare il loro commutatore qui c'è un refuso dovrebbe essere V e T con questa scelta di V e T ritroviamo che il rango dell'algebra di Lee associata è esattamente 3 e quindi soddisfa anche in questo caso la condizione di Ormander cosa che L tilde ripeto non il primo modello proposto non soddisfaceva quali sono quindi i nostri risultati che sono diciamo un inizio speriamo per possibili studi futuri e sono una disuguaglianza di Arnach e un bound inferiore per la soluzione fondamentale la nostra disuguaglianza di Arnach deve considerare i cilindri propri della geometria di questo operatore relativistico ovviamente questo operatore relativistico è invariante per traslazioni ma non per dilatazioni e quindi questo comporta delle piccole difficoltà aggiuntive ma localmente quello che succede è che l'operatore relativistico può essere approssimato con l'operatore di Kolmogorov non relativistico e quindi il nostro la nostra tecnica dimostrativa si basa infatti proprio su questo introduciamo un cambio di variabili locali che ci consente di ricondurci ad un nuovo operatore K che è appunto l'operatore di Kolmogorov associato ad L che è a lui diciamo localmente equivalente che come notate è appena più complicato di quello modello che avevamo utilizzato prima ci sono dei coefficienti davanti alle derivate seconde questo è un termine di ordine inferiore e poi abbiamo il termine di trasporto che è esattamente lo stesso l'importante è che per raggi piccoli questo coefficiente e questo coefficiente sono entrambi limitati e quindi possiamo applicare la disuguaglianza di Arnach che noi abbiamo per l'operatore di Kolmogorov classico e quindi localmente riusciamo a recuperare lo stesso risultato di regolarità per il nostro operatore L poi lo possiamo fare centrandoci nell'origine e con le traslazioni di Lorenz possiamo trasportare questo risultato in qualunque punto invece per quanto riguarda il lower bound il risultato qualitativo che noi possediamo è questo allora per prima cosa vorrei osservare che l'esistenza della soluzione fondamentale c'era garantita dallo stesso lavoro che ho citato prima di Bonfiglioli e Lanconelli quindi non è una cosa che noi abbiamo dovuto ridimostrare e invece per quanto riguarda il lower bound è un risultato qualitativo su delle strisce temporali vissato un intervallo di tempo noi sappiamo che la soluzione fondamentale ha un bound dal basso che è controllato diciamo da questa psi che è la funzione valore associata al problema del controllo ci sono svariati problemi relativi a questa funzione psi primo fra tutti che ancora a oggi non conosciamo la sua espressione esplicita quindi se qualcuno di voi fosse interessato a lavorare con questo con questa tipologia di setting quello sicuramente sarebbe la prima cosa da affrontare relativamente agli problemi aperti e qui la tecnica dimostrativa si basa fondamentalmente su tre ingredienti non starò qui a presentarvi i calcoli perché sono un po' troppo complicati però giusto per darvi un'idea di quelle che sono le cose importanti da tenere presente quando si vogliono dimostrare questi tipi di risultati qualitativi per prima cosa ci servono dei cammini ammissibili cioè dobbiamo poter presi due punti costruire un cammino ammissibile che congiunga il primo punto P0 Y0 T0 con il secondo punto P1 Y1 T1 e questo lo facciamo seguendo le direzioni che ci sono fornite dai campi che vanno a costituire il nostro operatore relativistico quindi questi cammini ammissibili sono semplicemente delle curve che sono assolutamente continue che vengono definite tramite il problema del controllo associato all'operatore una volta che noi sappiamo che possiamo congiungere due punti presi qualunque all'interno di questo spazio allora possiamo andare a definire il problema del controllo più propriamente noi consideriamo solamente i controlli nelle due perché per noi erano sufficienti e potendo caratterizzare quelle proprietà di base di questo problema del controllo che sappiamo essere risolubile perché è l'operatore ipoellittico riusciamo a dimostrare un primo risultato intermedio che vale per i punti che si trovano su quella che noi chiamiamo catena di Arnac cioè una sequenza di punti che connettono il punto Z0 che era P0 Y0 T0 e un generico punto gamma di S tali per cui su questi punti vale la disuguaglianza di Arnac tra il punto precedente e il punto successivo se si hanno tutti questi tre ingredienti la dimostrazione del lower bound è garantita quindi il primo problema aperto come vi ho detto rimane la caratterizzazione della funzione valore perché noi non siamo riusciti a farla non siamo abbastanza esperti in questo settore e di conseguenza collegata alla caratterizzazione della funzione valore c'è di sicuro la dimostrazione dell'upper bound che anche questo è un risultato ancora aperto non sappiamo neanche che forma abbia non sappiamo la regolarità non abbiamo stime particolari sappiamo sì è ben definita questo lo sappiamo qualche proprietà siamo riusciti a dimostrarle qualche proprietà di base tipo una specie di proprietà triangolare che se inseriamo un punto tra due punti allora la funzione valore la possiamo spezzare in due però sì le cose di base siamo riusciti però un'espressione esplicita come ad esempio perché nel caso del Kolmogorov abbiamo proprio un'espressione esplicita per questa funzione psi invece in questo caso non siamo riusciti a dare nemmeno un'idea di quale dovrebbe essere la sua forma ancora e niente questo è tutto quanto vi ringrazio per l'attenzione volevo chiederti se avete risultati sull'esistenza della soluzione della vostra equazione non li abbiamo fatti non li abbiamo fatti noi c'è un risultato che ci garantisce l'esistenza della soluzione fondamentale che è il lavoro di Bonfiglioli e Lanconelli del 2009 che ho citato qualche slide fa si però dei risultati espliciti relativi a questo operatore non ne abbiamo ancora sono ancora mancanti quello che si potrebbe fare che sicuramente sarebbe da controllare prima di lanciarsi in un'analisi di questo tipo è che questo operatore fa parte di categorie di operatori di Ormander che sono molto studiati e quindi bisognerebbe garantirsi che in effetti non siano già contenuti in altri risultati presenti in letteratura ma in un'altra veste ovviamente però che io sappia non c'è niente di esplicito ancora sì nemmeno la forma se per quello della soluzione fondamentale abbiamo giusto cominciato a caratterizzare le sue proprietà con il lower bound perché l'upper bound finché non si caratterizzano alcune proprietà della psi con le nostre tecniche noi non riusciamo grazie dici cosa ne ha pensato della vostra variante dell'operatore abbiamo appena iniziato non avete ancora avuto il feedback a proporlo però non abbiamo ancora avuto feedback che nemmeno negativi quindi quindi per ora ma contento è una minima variazione speriamo che apprezzino le proprietà di traslazione mantenute ecco altre domande commenti hai provato a scrivere l'equazione di Bellman l'associato sul problema di controllo no non abbiamo ancora il primo step ma la soluzione esplicita non è detto che si possa in generale però so che Sergio ci sta lavorando e probabilmente tra un po' uscirà qualcos'altro e gli è piaciuto molto questo problema quindi bene se non ci sono altre domande e commenti ringraziamo Francesca bene allora penso possiamo riprendere con la sessione pomeridiana bentornati bentornate il primo speaker Kevin Payne dell'Università di Milano come vedete il titolo è Comparison Principle for General Potential Theories and Full Non-Linear PD with Directionality in italiano o inglese come volete va bene possiamo anche fare italiano cioè va bene no no va meglio stesso allora ovviamente i miei ringraziamenti per gli organizzatori Cristian Alessandro Paola grazie anche a voi diciamo per una specie di mini course in Minfield Games è da lungo che volevo avere più di una conferenza quindi per questo sono soddisfatto allora quelle che vi parlo oggi sono gli ultimi sviluppi in un programma che è nato da anni che cerca di sfruttare al massimo una relazione produttiva tra qualcosa che chiamo una teoria potenziale generale e Full Non-Linear PD e quindi in qualche modo è un approccio che è iniziato da un lavoro di Harvey Loss nel 2009 che hanno preso spunto dell'idea di eletticità in un lavoro importante di Krylov ma largamente ignorato che in qualche modo cerca di in un studio anche di un'equazione alla verità parziale liberare diciamo l'ambiente dalla forma particolare dell'equazione ok non avrò molto da dire sulla questione filosofica voglio andare sul punto in qualche modo di dire quale sono lo stato delle cose adesso allora quindi questo quello che parlerò i risultati saranno in un lavoro messo sull'archive con Marco e Davide però utilizzo in modo forte la collaborazione che abbiamo fatto con Reese Harvey e Blaine Lawson allora il problema di introdurre è semplice ci interessa qui il confronto quindi prendo una coppia di funzioni ordinati sul bordo e voglio sapere se sono ordinati all'interno voglio discutere questo in due contesti a priori distinti però il punto sarà di costruire un ponte fra le due approcci il primo approccio è quello che è una tria potenziale generale quindi che cos'è saranno delle classi di funzioni che sono subarmoniche o superarmoniche in senso generalizzato invece di usare la traccia dell'essiana fisso una qualsiasi sotto insieme buono dello spazio dei due jet e chiederò un senso viscoso che vivo in quel vincolo di e la seconda ovviamente per una cosa più familiare per noi sarebbe un'equazione second ordine chiaramente ci saranno da fare ipotesi sia sull'operatore f e questo oggeggio che è chiamato una sub equation in qualche modo anticipo il bordo topologico della sub equation corrisponderà diciamo all'equazione ovvero dove l'operatore si annulla ok allora quindi ci interessa la versione diciamo quella che chiamerò la versione elittica in cui si vede tutto il bordo ma ovviamente in questo contesto come nella classica viscosa diciamo abbiamo bisogno di un'elettricità del genere monotonia nella siana che non è incompatibile anche con equazioni paraboliche quindi nello stesso tecnico riusciamo a ottenere diciamo principi di confronto sia nella versione elittica dove vedo tutto il bordo e anche la versione parabolica ok quindi la forma di quello che chiamerò oggi la parabolica version sarebbe che utilizzo un sottoinsieme proprio del bordo per determinare l'ordinamento e spesso nell'applicazione è il vero diciamo bordo parabolico noto allora quello che voglio fare è presentare brevemente gli assiomi di questa teoria potenziale ok questo sarà per tanti di voi un ingrediente nuova poi il punto di importanza qui sarà c'è tutto un metodo iniziato da Harvey Lawson dove con abbastanza monotonia e sfruttare un concetto di dualità loro uno riesce a dimostrare confronto in modo molto trasparente per chi per chi che sa le trie viscose e non ha già sentito un po' questo discorso un po' l'idea sarebbe che ci sono aspetti algebrici che vengono fuori dalla monotonia che se la funzione fosse già semiconvessa diciamo avrò il confronto quasi ovunque quindi devo solo passare ovunque ok quindi ci sarà nell'ultimo passaggio l'utilizzo di passare usando la subconvoluzione diciamo dalla classe di cose semicontinua a quelle semiconvesse è un po' un approccio diciamo questo metodo indica se uno attende di fare diciamo la subconvoluzione fino all'ultimo momento si lavora nel mondo semiconveso il più lungo possibile e le cose diventano diciamo più trasparente questo vediamo e poi diciamo descriverò ovviamente la formulazione per le equazioni qui la cosa importante sarà la nozione di un vincolo di ammissibilità e questo distingue tra quello che si vede per esempio nell'user's guide diciamo dove la monotonia è fatta come ipotesi diciamo globalmente in tutto lo spazio dei due agenti però basta pensare di un operatore tipo mongeamper o la monotonia solo sul cono positivo quindi questa teoria ingloba in un modo diciamo organizzato la questione quando devo fare una specie di vincolo di ammissibilità poi farò le enunciate motivati dal discorso precedente di tre risultati generali che in qualche modo sono diciamo il nucleo di questo lavoro con Davide e Marco e poi vorrei illustrare diciamo con qualche esempio quella che è la parola chiave nel titolo che è directionality quindi rispetto al progetto i risultati nuovi hanno dipendenza anche nel variabile del gradiente quindi ci servirà per questo metodo di monotonia qualche monotonia nel variabile del gradiente e poi anche c'è dipendenza sui coefficienti x non è coefficienti costanti e questo distingue diciamo da un altro caso che abbiamo trattato recentemente ok che cos'è una tria potenziale prendete diciamo un sotto insieme dello spazio dei due jet richiedo due proprietà di monotonia nel senso che richiedo che se prendo un elemento nella fibra su x se io faccio una perturbazione con una matrice positiva o un numero reale negativo diciamo rimango dentro il vincolo quindi una specie di proprietà di invarianza ovviamente questa invarianza di essere diciamo stabile rispetto a perturbazione in matrice non negative corrisponderà all'elettricità del genere e quando faccio la stabilità rispetto al variabile reale della soluzione questo corrisponde al properness ok quindi questo diciamo non è sorprendente la forma della condizione c'è una terza condizione che garantisce elementi di una teoria potenziale molto robusta che è una specie di stabilità topologica vedete che la prima indica già che i vincoli saranno insieme chiusi ok quindi prendete questi assiomi diciamo come quello che definirà una teoria potenziale buona e quindi una funzione che è subarmonica rispetto a questo vincolo è la cosa naturale cioè prendo diciamo la super differenziale di ordine e 2 e chiedo che questo sta dentro il vincolo di nuovo pensate dell'aplaciano l'aplaciano avrà l'operatore che è la traccia la traccia maggiore o uguale di 0 sarà un iperspazio dentro lo spazio dei jet e quindi chiedo che se io tocco dall'alto con un parabolo per esempio diciamo trasferisco la diseguaglianza differenziale sulle funzioni test ok quindi la definizione diciamo di subarmonica è come una sub soluzione in senso viscosa dove non ho l'operatore in questo caso ho solo il vincolo sui due jet ok funzioni che sono subarmoniche sono definite nel modo cui potete immaginare di nuovo una definizione viscosa quindi uso lower test jets in questo caso e quello che voglio è che non sono una sub soluzione quindi chiedo che per esempio che sono nel complemento diciamo dell'interno del vincolo di nuovo pensate l'aplaciano minore uguale di zero vuol dire che no no l'aplaciano diciamo strettamente positivo per dire ok allora l'idea di Harvey Lawson è che semplifica un po' le cose e che c'è un'operazione di dualità in questo contesto quindi dato una tria potenziale con un sub equation f corsivo c'è un oggetto definito in modo insimistico che prendo l'interno complemento nego e quindi ho un nuovo vincolo questo soddisfa tutte le proprietà di assiome quindi ho una classe di sub armoniche duali ok la semplificazione nella tria in parte viene perché se io nego diciamo una super soluzione diventa una sub soluzione duale ok quindi questo avrà diciamo un'influenza su come si dimostra la confronto alla fine nel senso che invece dimostrare un minore uguale di v doppio porto v doppio dall'altra parte compiando segno e avrò una somma di una sub armonica e una sub armonica duale ok allora monotonia gioco un ruolo fondamentale in tutta la tria quindi fissiamo un sotto insieme dei due eget quindi m corsivo diciamo è di coefficiente costante ok e è una sub equazione quindi soddisfa le azioni che avevo detto prima e anche un cono quindi sarà un cono con verso con vertice all'origine questo è la protagonista un po' nel metodo ok e diciamo che una sub equazione f corsiva fibre per fibre o la proprietà che il cono preserva le fibre senza la somma di jet che stanno dentro il vincolo f più la con di monotonia stanno dentro ok un miracolo una bontà della forma di dualità è che questa formula di somma che f più il cono sta dentro f è equivalente a dire che f più il duale sta nel cono duale ok questo diciamo è se pensate se la mia funzione subarmonica era già due volte differenziabile allora avrei una forma di edizione su subarmoniche punto per punto avrei la somma di una cosa f subarmonica e il suo duale e subarmonica rispetto al duale del colon di monotonia ok ovviamente questo non ce le ho diciamo dappertutto però si riesce a mostrare che se f è di un'altra proprietà questa fibre regularity cosa vuol dire fibre regularity vuol dire che cosa potete immaginare fibre per fibre voglio continuità ok la fibre dove è un sottoinsieme dello spazio vettoriale quindi metto le distanze di Hausdorff lì e quindi chiedo solo che la continuità rispetto a quella metrica lì più naturale possibile quindi se uno ha una subequazione f che è m monotona e fiber regular allora io ho questa forma di subarmonic addition cioè le somme di f subarmoniche e duali subarmoniche sono subarmoniche rispetto al cono duale notate che il cono duale è duale di una cosa di coefficienti costante quindi ho ridotto in realtà diciamo la questione a qualcosa che è coefficienti costanti e questo è una parte da me ok quindi se voglio mostrare un principio di confronto nell'attria potenziale se ho una subequazione che è fiber regular e m monotona mi basta mostrare la verità di un principio di massimo rispetto a zero di somme di subarmoniche lorduali ok e questa è una cosa che capiamo molto bene cioè sappiamo diciamo la famiglia di coni riusciamo a costruire una famiglia fondamentale cioè dato un cono di monotonia c'è una famiglia con un numero finito di parametri che dà una specie di base di intorno dei coni e per quelli lì sappiamo esattamente quando vale questo principio di massimo ok e quello che richiede il principio di massimo in questo contesto è solo che il cono di monotonia ammette una subarmonica classica stretta ok quindi qui quasi quasi ho fatto l'enunciato del teorema del principio di confronto ok dalla mia tria potenziale ho bisogno che m è monotona e fiber regular con coni di monotonia che ha una subarmonica classica stretta questa è l'enunciata del teorema ok rispetto agli operatori quindi devo velocizzare ok avevo detto che il punto cruciale qui sarà un vincolo di ammessibilità quindi consideriamo solo operatori che chiamiamo noi proper liptec quindi ho bisogno della minima monotonia nell'essiana e la variabile della soluzione però non chiedo che questo succeda globalmente rispetto lo spazio dei due jet quindi prendo un dominio per la mia operatore F come G corsivo che sarà un sub equation quindi definisce una tria potenziale chiedo che sia crescente nella variabile dell'essiana decrescente nella variabile della soluzione quando restringo F a un dominio che è un sub equation ok questo contiene due casi G potrebbe essere tutto lo spazio e quindi è la definizione normale che si trova nel user's guide di proper ellipticity ok oppure quello che ci interesserà più in generale sarà quando G è un sotto insieme proprio del spazio dei due jet ok quindi qui come avevo già nominato c'è l'esempio classico se avete per esempio un operatore tipo monge impero dovete restringere diciamo alla sub equazione che sarebbe di avere matrici non negativi che sono funzioni colvesse ok quindi quello che questa definizione fa e fa in un modo organizzato e robusto per cose che tipicamente erano fatti in un modo ad hoc nella letteratura quindi codifico un po' la questione ok quindi la definizione di subsoluzione se c'è un vincolo di immessibilità è una leggera modificazione della definizione viscosa classica se prendo diciamo dei upper test jet allora devo averli che stanno dentro sia il vincolo fibra del vincolo quindi stanno dentro il dominio per dire e ho l'assegno per l'operatore che voglio che è f è maggiore uguale di zero quindi allora se invece voglio pensare di supersoluzione prendo adesso diciamo i lower test jet e poi ho un'alternativa allora se sto diciamo con il spazio dei lower test jet o sto nel vincolo e ho il segno che voglio quindi questa sembrerebbe una supersoluzione oppure diciamo il jet non vive dentro il vincolo che vuol dire che nella definizione sto usando solo diciamo i lower test jet che stanno dentro il vincolo ok questi sono i commenti che siamo fatti nelle prime tre righe allora come potete immaginare da un lato la questione di analizzare il principio di confronto in una teoria potenziale interessante in sé perché posso pensare del problema di Dirichlet per esempio associato alla funzione che sarà una f armonica ok quindi il principio di confronto mi dà sia l'unicità delle soluzioni di Dirichlet e insieme con barriere che vuol dire una geometria giusta al bordi riesco anche implementare il metodo di Perron per l'esistenza quindi da un lato la questione potenziale ha una sua dignità ok se voglio usarlo come una tecnica per PDI allora posso pensare di tentare di avere un modo di prendere il mio operatore preferito e immergerlo dentro nel terreno potenziale poi ho già fatto la questione di confronto non solo cioè fissato una qualsiasi vincolo questa sub equazione ci sono un sacco di operatori con la stessa sub equazione associato quindi una volta per tutto faccio una famiglia di operatori questa parte di scorsa ok quindi se io prendo uno di questi operatori proper elliptic quindi un operatore che ha un dominio di sub equazione ok per la quale ho la minima monotonia di crescente nella siana e decrescente nella variabile della soluzione posso tentare di costruire materiale potenziale associato allora cosa faccio faccio la cosa naturale prendo la sub equazione candidato sub equazione di essere delle cose che stanno dentro il dominio dell'operatore e dove f ha il segno che voglio maggiore quale di zero ok quindi per avere una materia potenziale ho bisogno che una sub equazione la monotonia viene per gratis perché g ha la monotonia giusta e quindi questo si restringe a f quindi siamo opposto e mi serve che g sia minimamente regolare mi serve che la coppia è m monotono per una monotonia di sub con equazione m e chiedo un'altra proprietà di regolarità sull'operatore f quindi questo sto preannunciando il termine di un principio di corrispondenza quando ho la possibilità di dire che c'è una tria potenziale associata a un operatore proprio litte va detto che nello principio di corrispondenza io voglio che sub soluzione e super soluzione con vincoli di dimensibilità corrispondano alle mie sub armoniche e super armoniche metà di questo principio viene per gratis la questione è la nozione di super soluzione quindi potete ripensare c'è una mancanza di simmetria nella definizione di sub soluzione vincolato e super soluzione questo un po' si risente questa mancanza di simmetria quindi quando abbiamo l'affermazione che U è una super soluzione con vincolo di dimensibilità 6 solo 6 e super armonica chiediamo che l'interno di questa etteria potenziale può essere descritto come elementi nel dominio dell'operatore con un segno positivo questo in pratica si riesce a controllare se voi avete il vostro operatore propri preferito guardate che si annula sul bordo dell'effet corsivo e c'è un minimo di monotonia stretta vicino al bordo questo tipicamente si riesce a controllare ok quindi adesso i risultati sono più o meno vi ho già dato modo di capire questo risultato quindi il teorema di confronto generale abbiamo il seguente se prendo una qualsiasi etteria potenziale F che è fiber regular e M monotono rispetto a cono di monotonia se quel cono lì emette una subarmonica classica allora abbiamo la versione ellittica del confronto la versione parabolica dice che se quella subarmonica anche è meno infinito su complimento di quello che sarà il bordo ridotto allora vale la versione parabola che lo confronto ok allora qui sto ricordando quello che avevo detto a voce che questa condizione di fiber regular è quella condizione di continuità più debole immaginabile chiedo che fibre per fibre il vincolo si sposta con continuità dove la continuità è l'unico modo necessario questo concetto astratto non è facile di implementarle così quando la subequazione f e anche m monotona riesce a riformulare la continuità in una proprietà che è molto più guardabile nel senso che se prendo diciamo una fibra in x e aggiungo un multiplo di elemento all'interno del cono sto dentro la fibra in un punto vicino quindi potete immaginare come si usa questo fatto si usa questo fatto in qualche modo per immaginare che questo elemento qui questa eta sarà una costante che potrebbe essere benessamente piccolo il mio j0 chi sarà il mio j0 sarà il 2 jet della mia subarmonica stretta e quindi questo è un modo per far sì che io riesco a controllare la situazione con quei coefficienti variabili che cosa è il problema con coefficienti variabili se avete una semicontinua subsoluzione e fate la subconvoluzione coefficienti costanti vuol dire che quella regolizzazione è ancora subarmonica quando viene introdotto la dipendenza su x questo non è più vero però quello che ci basterà è dire che in un modo uniforme ci saranno delle piccole perturbazioni usando un multiplo di questa subarmonica stretta che fa parte dell'esistenza in cui riusciamo a dire che queste piccole perturbazioni rimangono subarmoniche in qualche intorno vicino e questo insieme con la subconvoluzione è quello che più o meno ci lascia fare quell'ultimo passaggio nella regolarità ok allora il premio di corrispondenza che forse è uno dei risultati principali di questo lavoro con Davide e Marco abbiamo stabilito un buon principio di corrispondenza nel caso di coefficienti costanti nel libro che sarà pubblicato tra breve con Harvey Lawson e Marco e invece usando sostanzialmente la fiber regularity più la M monotonia riusciamo a stabilire diciamo questo principio di corrispondenza quindi preso un operatore proprio Liptic nel senso in cui avevo definito definisco candidato della tripotenziale tramite questo correspondence relation cioè f è uguale gli elementi nel dominio dell'operatore per il quale f è maggiore o uguale di zero ok supponiamo che f sia una subequazione successivamente ci saranno condizioni strutturali sull'operatore f che garantisce però per adesso supponiamo che le cose vanno bene supponiamo che abbiamo questa relazione di compatibilità detto prima allora vale l'equivalenza ok quindi questa è una ricetta in qualche modo per come trasportare vostro operatore proper Liptic in un contesto del tripotenziale per il quale potete applicare subito il risultato generale ok quindi in particolare se ho la principia di corrispondenza ho risolto la questione che sub e super armoniche corrispondono armoniche corrispondono e quindi posso ridurre la ricerca di mostrare il principio di confronto a livello degli operatori a quelle del tripotenziale associato ok ok questi due ultimi commenti avevo più o meno detto ok c'è una cosa che va apprezzato in questa teoria è che è il bordo del vincolo che determina l'equazione ok quindi se siete interessati nella soluzione dell'equazione siete interessati solo in intorno di quell'insieme lì quindi tutte quelle ipotesi che uno mette globalmente nel spazio dei jet tanto non serve uno deve stare vicino a quello zero locus ok poi per avere un prototipo terremia generale a livello degli operatori quali diventano le condizioni strutturali necessarie di mettere su un operatorio proprio elliptic per avere confronto allora quello che serve è la monotonia quindi un cono di monotonia che è una subequazione chiedo che f sia diciamo crescente diciamo nelle direzioni di quel cono sul suo dominio ok la seconda questione di regolarità è quella che garantirà che la proprietà topologica del candidato a subequazione è una subequazione vedete che il suo form dipende sia su x e y quindi questo un po' servirà quel passaggio di regolarità però è anche intorcigliato un po' con monotonia ok in quel senso lì potete pensare che non è magari lontanissimo di quella che è la condizione essenziale in Crandolice e Lyons che è molto più difficile di rappresentare ma anche lì c'è un misto di regolarità e monotonia lì dentro ok quindi questa condizione è quella che serve per mostrare quello che ci serve però secondo me va capito ancora meglio ok quindi la terza ipotesi è qualcosa che quasi sempre è ovvia cioè abbiamo ammissione che il zero locus dell'operatore non è nudo altrimenti non ci sono armoniche da considerare e chiediamo la compatibilità ok quindi se abbiamo questo sostanzialmente queste ipotesi garantiscono cosa garantiscono che vale il principio di corrispondenza e quindi la questione di confronto a livello dell'operatore va trasportato all'atteria potenziale associato quindi ho la tesi del primo terreno ok quindi avevo già detto questo che la condizione di regolarità garantisce che la subequazione soddisfa quell'ultima proprietà che devo controllare che è questa stabilità topologica ok e la condizione di compatibilità tipicamente si controlla caso per caso no controllate che l'operatore sia nullo sul bordo e che avete un minimo di monotonia stretta e un intornino piccolissimo del bordo questo ci basta ok quindi questo va controllato a mano nei esempi nei cinque minuti che mi rimane volevo farvi qualche esempio che indica quell'altro parola che non ho ancora detto niente nel titolo che è la direccionalità ok questo è quello che distingue questo termine generale vale e quindi questi saranno gli esempi che in qualche modo non erano presenti prima nella teoria quindi l'oggeggio di base è quello che chiamiamo un directional cone quindi è un sotto insieme di rn che è lo spazio dei variabili del gradiente è un cono chiuso convesso con vertice all'origine diciamo che una sub equazione soddisfa la direccionalità rispetto al cono lì se ha la proprietà di invarianze anche rispetto a quelli variabili del gradiente ok un operatore che già ha la monotonia minima per confronto di essere proper elliptic con il suo dominio g che è una sub equazione poi diciamo che questa ha la direccionalità diciamo nelle variabili del gradiente se abbiamo una monotonia anche rispetto a quelli variabili lì ok ci sono diversi esempi ovviamente utili di coni di direzionalità per esempio se prendete non è escluso che D è tutto RN in quel caso lì questo sta dicendo che sostanzialmente siete indipendenti la variabile del gradiente quindi quel caso lì è concluso in questo lavoro con Marco di qualche anno fa poi semispazi sono ovviamente interessanti con i chiusi vertici origine questo ovviamente è il naturale candidato diciamo per equazioni che sono paraboliche nel senso giusto ok e poi ovviamente c'è il cono positivo in cui tutti i coordinate sono positivi ricordo nell'ultimo riga è solo che abbiamo insieme se abbiamo un operatore proprio lì con direzionalità nel gradiente abbiamo in realtà monotonie rispetto a tutte le tre variabili quindi tutti le tre variabili nel cono di monotonie sono attivi ok un esempio un esempio che produce un risultato di confronto lì lì saranno equazioni che vengono fuori dal problema di trasporto ottimo questa equazione ha la struttura di un termine di gradiente una funzione di gradiente che moltiplica l'operatore monotonie che è uguale a un sorgente nel problema questo modulizza di cercare di trasportare diciamo una densità della fonte di f diciamo a un target g ok l'ipotesi che è necessaria per confronto sono le non negatività di f e g ok e che abbiamo un cono di direzionalità per il fattore del gradiente non ci serve solo la monotonia debole di essere crescente su d nelle direzioni di d prima o poi avremo bisogno di questa proprietà di regolarità che era un po' di monotonia stretta e quindi va rafforzata un po' quella condizione per avere la proprietà di regolarità quindi queste sono le due condizioni necessarie quindi g sarà crescente su d nelle direzioni di d e ci sarà una monotonia stretta diciamo per rispetto a qualche direzione q barriato q barriato sta all'interno del cono d che è non vuoto ok allora non è difficile di vedere che c'è un cono di monotonia che è formato proprio da i vettori che stanno alla parte del gradiente che sta dentro di d a maggiore uguale di 0 questo è il dominio naturale per l'operatore questo è un cono di monotonia quel cono lì emette una c2 subarmonico su qualsiasi dominio limitato quindi confronto vale su ogni dominio limitato ok bene poi un esempio di una cosa parabolica allora Krillova ha in un altro lavoro importante ha suggerito forme diverse per equazioni paraboliche che erano fully non linear e notate questa struttura di prodotto quindi c'è meno la derivata in t per il monotonia spaziale uguale a un sorgente di x e t ok quindi sono verso la fine del tempo quindi quello che c'è da dire quell'equazione lì ha un cono di monotonia che non è difficile di spiegare prendo le componenti in t minore o uguale di 0 quindi è un semispazio per il cono di direzionalità prendo le matrici n più 1 per n più 1 dove la parte superiore spaziale è maggiore uguale di 0 questo corrisponderà alla monotonia nella variabile del siano che mi serve queste cono di monotonia ammette un chiaro funzione che è c2 strettamente subarmonica che esplode sul complemento dal bordo parabolico e quindi di nuovo per il tema generale questo diciamo abbiamo la versione parabolica delle cose se posso rubare un minuto vediamo questo esempio non lo discuto è una variante di un esempio che abbiamo già considerato precedentemente è un esempio che mostra che è possibile avere confronto tramite questo metodo anche quando la condizione strutturale di grandolish falisce sostanzialmente si gioca su due parametri sull'ordine di 0 isolati si riesce a mostrare che nonostante che messo nella nostra teoria diciamo falisce il risultato di grandolish di 11 quindi un esempio di qualcosa questa condizione malefica loro come avevo detto c'è questo misto un po' di qualche cosa di monotonia più regolarità in Y la nostra condizione di regolarità è un po' più facile per dare però meno applicabile di loro ok vi lascio solo con una provocazione se posso negli esempi che ho fatto velocemente chiedo scusa per aver fatto così velocemente ma c'era sempre l'operatore di mongeampere il prototipo operatore di generalitica che ha bisogno di essere ristretto qualche sotto insieme per avere la monotonia ok l'operatore di mongeampere è il più semplice esempio di un operatore definito tramite un polinomio di guarding un polinomio di guarding è un polinomio omogeneo di un certo grado per il quale se guardate il polinomio di una variabile che manda t nel polinomio valutato t per elemento a più v questa funzione in qualsiasi spazio vettoriale se quella funzione di variabile t ha esattamente m radici reali è detto iperbolico nella direzione di a mongeampere è iperbolico nella direzione dell'identità ok e la teoria di guarding dà due cose utilissime per questo metodo di confronto mi fornisce subito un cono di monotonia ok e su quel cono di monotonia ho monotonia stretta e quindi ho tutto quello che mi serve per confronto quindi potete giocare diciamo a voglia diciamo basandosi su operatori che sono modulizzati su questo perché avete già subito tutto la monotonia il cono di monotonia e la monotonia stretta che vi serve quindi l'ultimo riga è una specie di provocazione cioè potete prendere un prodotto di tre diciamo polinomi di guarding nei variabili separati prodotti sono più felici rispetto a somme in questa teoria che questa è una parte di questo principio di corrispondenza bisogna della compatibilità e la struttura del prodotto è più felice rispetto a somme ok finisco grazie grazie vediamo se c'è qualche domanda questa teoria del potenziale generalizzato che avete sviluppato ci potrebbe essere una controparte probabilistica di sicuro sì non studiato da noi di sicuro cioè di sicuro avevo mostrato velocemente per esempio tanti quell'esempio che abbiamo dimostrato confronto ma l'approccio classico falisce erano cose che Krill aveva introdotto come buoni casi di cose stocastiche ok parte della gamma per esempio uno potrebbe dire che se uno potrebbe prendere esempi tipo Hamilton Jacobi Bellman Bellman Isaacs e cose di questo genere con abbastanza di razionalità si riesce anche a trattare questo quindi nel libro che sarà pubblicato per breve c'è un paragrafo diciamo dove quando lì vengono applicati quindi ovviamente visto diciamo l'importanza dei metodi probabilistici questa risposta migliore che ho adesso ok però quindi cioè però forse usando un po' di probabilità qualche qualche le condizioni che hai illustrato potrebbero essere comprensibili sul piano geometrico accolgo la domanda credo che sia una buona idea sì sì giustamente sì grazie senti ci sono esempi in cui si possono arrivare risultati di regolarità dal confronto questa è un'ottima domanda anche nel senso che è chiaro che la tecnica classica di Ishi Lyons per almeno arrivare a Stephen tipo Alderiane Stephen tipo Lipsitz eccetera questa si può fare no si usa si usa l'osservazione che nell'MD Ishi quella cruciale diciamo le sue condizioni che è necessario quando si fa la reddoppio la penalizzazione eccetera l'MD Ishi per quelle cose lì è completamente contento di avere un vincolo dietro quindi non è necessario di averlo quindi questo ho fatto con Iso Bobby Randelli studiando gli autovolori per KS per esempio quindi regolarità almeno fino a Lipsitz e Rulldelliane si riesce a fare quindi compattezza per metodi in cui per esempio l'esistenza in quel caso lì non hai la monotonia giusta nella variabile della soluzione quindi devo truffare le cose facendo una prossima azione quindi quella stima di compattezza che arriva dalla regolarità è cruciale regolarità superiore è una cosa completamente aperta allora è chiaro che se uno prende i modelli che ho fatto in fondo queste cose sono state strastudiate da Caffarelli in Iremberg e Spruck e quindi avreste tutte le stime che volete però tutta altra tecnica però credo che sia comunque una buona domanda ci siamo interessati a cercare di formulare nel modo più generale possibile almeno le stime puntuali diciamo tipo fino all'Ulderianità eccetera cercare di capire bene c'è una forte sospetto che c'è un oggetto che si chiama un numero che si chiama la caratteristica di Ritz che è legato a soluzioni fondamentali diciamo di operatore e c'è un parametro critico un valore critico di quella cosa lì per la quale l'Ulderianità viene quasi per gratis ok la dimostrazione potenziale è facile e caso difficile tipicamente utilizzano questi dati adesso dimentico il nome dell'autore tecniche di analisi reale molto fine di cercare di trattare casi in cui quasi la realità ulderiana non succede in modo gratis quello lì per questo potenziale sarebbe una domanda molto interessante di cercare di capire come raffinare le sue capacità di ottenere stime di questo tipo ok allora possiamo proseguire con Alessia Cogoi dell'Università di Urbino e lei ci parla di Teoremi di Uvil per operatori a derivate parziali poellittici sui profili grazie e anch'io volevo cominciare ringraziando tutti gli organizzatori perché mi fa veramente piacere essere qui quindi davvero molte grazie proprio grazie e volevo in questo talk dare una rassegna di Teoremi di Uvil che abbiamo provato per operatori di evoluzione che sono invarianti rispetto rispetto alla legge di traslazione a sinistra sui gruppi di lì e anche per la loro controparte stazionaria e comincerò parlando di risultati di unicità che abbiamo ottenuto per le soluzioni e le sottosoluzioni negli spazi LP e poi volevo parlare dei Teoremi di Uvil di tipo asintotico in particolare qui abbiamo un Teorema di Uvil a T uguale a meno infinito di cui vi dirò a breve cosa intendo dire e poi chiuderei parlando appunto dei classici Teoremi di Uvil per funzioni limitate e per vedere quando è possibile rimuovere il bound da una parte e quindi ottenere quelli che appunto vengono chiamati One Side o gli Strong di Uvil Teorem e questi tutti i risultati più recenti e meno recenti sono frutto di una collaborazione con Andrea Bonfiglioli e Ermano Lanconelli dell'Università di Bologna IEUda Pinchover del Technical Institute in AIFA Sergio Polidoro dell'Università di Modena e Rico Priola dell'Università di Pavia allora cominciamo volevo cominciare appunto dandovi un'idea di che operatori sto considerando quindi mostrandovi subito qualche esempio e il primo è l'operatore del calore sui gruppi e ieri Giulio Tralli ha introdotto il gruppo di Heisenberg e in questo caso qui abbiamo un aspettate scusate un qualsiasi sublapprezzano sui gruppi di Carnot quindi una somma di quadrati di campi che generano tutta un'algebra di lì e poi questo qua è in Rn e poi meno detti e qui ho scritto l'esempio più semplice cioè la placiana di Conn sul gruppo di Heisenberg in dimensione una appunto meno detti un altro esempio mi hanno già aiutato i miei precedenti speaker perché di questo ho parlato Francesco Anceschi stamattina e operatori tipo Colmogorov dove A e B in questo caso sono matrici reali costanti A è semidefinita positiva può essere anche degenere e A e B devono soddisfare sono matrici a blocchi che devono soddisfare opportune condizioni in modo tale che l'operatore sia pellittico e qui appunto il prototipo è l'operatore che se qui di cui già ha parlato Francesco l'operatore io mi riferisco a quello cinetico di Colmogorov e se qui prendiamo A in questo modo con la matrice identità con n piccolo e B lo scriviamo così ritroviamo le notazioni sono diverse ma l'operatore è lo stesso di cui parlava Francesca dove x1 xn è il vettore velocità e xn più 1 x2 n è il vettore posizione che Colmogorov ha introdotto nel 1934 e poi possiamo anche volendo sostituire la parte principale di un operatore di Colmogoro con un sublaplaciano ovviamente anche qui sotto opportune condizioni però per esempio possiamo avere un laplaciano di Kohn quindi un sublaplaciano sul gruppo di Heisenberg più un drift di Colmogoro e anche questo è un operatore che va bene per i nostri teoremi l'ultimo operatore che volevo mostrare come esempio è quello di Manford che è questo qua e ovviamente tutti questi operatori appaiono in vari contesti sia teorici che applicati e la bibliografia è estremamente ricca quindi qui ho solo riscritto alcune alcuni punti di riferimento e per esempio appunto quello di Manford nella visione umana lo troviamo nella visione umana artificiale colmogoro nella finanza e nella stocastica e però adesso vabbè vorrei parlare dei nostri risultati e anzi no prima di parlare di cominciare con i nostri risultati volevo fare un cioè sottolineare una differenza fondamentale tra il caso parabolico e quello armonico perché adesso cominciamo con i teoremi di LP e nel caso parabolico scusate armonico quindi qui abbiamo la Palaciano e il teorema di Luili in LP segue a una diretta conseguenza della formula di media di Gauss perché se voi vedete basta appunto scrivere U la media di U sulla palla e ho quell'idea dopodiché applichiamo la disuguaglianza di Helder otteniamo questa quantità qui se U è in LP quindi questo termine è finito quando R va a più infinito ovviamente questo qui va a zero ok ma qual è la differenza col caso col problema per il calore è che qui il nucleo è 1 invece nel nostro caso il nucleo non è limitato ok e quindi è molto più complicato provare questi teoremi noi per quanto ne sappiamo anche quello per il semplice operatore del calore è nuovo e lo proviamo ci rifacciamo a dei metodi della teoria del potenziale parabolica e usando sempre una formula di rappresentazione per le funzioni armoniche cioè scusate caloriche quindi per le soluzioni e per le sottosoluzioni usiamo una formula di tipo Passon-Jensen e otteniamo quindi questo risultato qua che se abbiamo una soluzione ora con L intendo appunto uno degli operatori che ha mostrato come esempio quello che ci interessa è che l'operatore sia ipolitico e invariante per traslazioni rispetto a una legge una qualsiasi legge di gruppo e quindi se U è una soluzione globale di questa soluzione di questa equazione e U sta in qualche LEP allora U deve essere per forza 0 poi abbiamo anche un teorema per le sottosoluzioni qui ovviamente L di U maggiore o uguale di 0 intendiamo nel senso debole delle distribuzioni e otteniamo che U deve essere per forza minore o uguale di 0 e questo risultato nel caso in cui l'operatore è anche omogeneo diventa ottimale perché otteniamo proprio un esponente critico che dipenderà dalla dimensione omogenea dello spazio per cui se U e se P sta in un certo range allora U deve essere per forza uguale a 0 se invece P è maggiore di questo esponente allora troviamo proprio una funzione U minore o uguale di 0 che è anche soluzione il caso P uguale a infinito è un po' delicato perché non è detto che valga in generale ma ne parlerò dopo ah non l'ho detto prima ma quando dicevo LP intendevo rispetto alla misura di Lebeg e invece con Bonfiglioli cosa abbiamo fatto abbiamo esteso questi teoremi che sono esattamente gli stessi di prima però in LP non rispetto alla misura di Lebeg ma rispetto a una qualsiasi misura di R invariante a destra e otteniamo gli stessi quindi che se U è una soluzione globale e U sta qualche LP sarà per forza uguale a 0 inoltre qui richiediamo maggiore regolarità sulla U perché vogliamo che siano G2 ma se U è sempre una soluzione di L di U maggiore o uguale di 0 otteniamo che la U deve essere per forza negativa e quello che è carino è che se noi conosciamo la legge di gruppo la misura di R riusciamo a scrivere esplicitamente perché basta prendere questa è la legge di gruppo prendiamo la matrice jacobiana determinante quindi si calcola proprio esplicitamente e per esempio per l'operatore di Kolmogorov che io scrivo così con queste notazioni qui la legge di gruppo è esattamente questa rispetto alla quale l'operatore è invariante e quando andiamo a calcolare la misura di R viene fuori che in effetti la misura di R è questa qui e alla T per la traccia di B e quindi vengono fuori i dettoriami di Ljouville che abbiamo chiamato compeso però abbiamo che appunto sono sempre gli stessi cioè se U è una soluzione globale e questo integrale qui è finito per un qualche P allora U per forza deve essere uguale a 0 e se U è una sottosoluzione di questo tipo allora sempre se questo integrale è finito U è minore o uguale di 0 abbiamo fatto anche un'applicazione al teorema di Cauchy quindi otteniamo l'unicità per un teorema per questo problema di Cauchy con L0 intendo l'operatore stazionario rispetto al tempo e qui ci rendiamo conto ovviamente che questo risultato non è ottimale però è vero che vale per una ampia classe di operatori ora passiamo ai teoremi di Liouville invece quelli appunto two side o one side e qui pure volevo sottolineare subito una differenza importante col caso armonico perché ok sappiamo che tutte le funzioni armoniche globali non negative e per forza sono costanti e nel caso del calore questo teorema qui non è vero perché già basta l'operatore del calore la placiano meno di t perché se consideriamo questa funzione qui è una soluzione dell'operatore del calore uguale a zero e ovviamente non è positiva e non è costante quindi per avere questi teoremi dobbiamo o aggiungere qualche altra condizione sulla soluzione quindi adesso vedremo una crescita polinomiale per esempio oppure senza aggiungere altre condizioni quello che noi troviamo è un teorema che abbiamo chiamato di lui la t uguale a meno infinito perché quello che dimostriamo è che se prendiamo una soluzione globale non negativa dell'equazione ora per questi teoremi qui con L tilde intendo l'operatore quando ha anche la proprietà di omogeneità quindi abbiamo bisogno di una struttura soggiacente di dilatazioni per cui l'operatore risulta omogeneo e tutti gli operatori di cui accennavo all'inizio vanno bene tranne tranne quello di Manford e quindi se abbiamo una soluzione globale o anche una soluzione su questo semispazio quello che otteniamo è che il limite quando della soluzione quando t va a meno infinito è indipendente da x è uguale all'estremo inferiore della funzione questo appunto per tutti gli x e quindi diciamo che u è costante a meno infinito da questo teorema qua si ricava facilmente il teorema di Liouville per le funzioni limitate perché basta che prendiamo sempre la soluzione se u è nell'infinito basta definire l'estremo inferiore m minuscola l'estremo superiore m maiuscola consideriamo queste due funzioni u meno m e m meno u ovviamente queste due sono sempre soluzioni globali e non negative quindi possiamo applicare il teorema di Liouville a meno infinito e quello che otteniamo è che entrambi questi due limiti siccome sono uguali all'estremo inferiore vanno a zero e ora basta che scriviamo m maiuscolo meno m minuscolo facendo un cavo emetti della u entrambe queste due funzioni quando t va a meno infinito tendono a zero e quindi otteniamo che l'estremo inferiore uguale all'estremo superiore e quindi u è costante dite pure se c'è qualcosa che non è chiaro fermate ok quindi per l'operatore di evoluzione l se abbiamo una funzione limitata abbiamo Liouville e se non supponiamo cioè se vogliamo considerare però cioè se la funzione è limitata solo da un lato sempre soluzione dobbiamo per forza assumere una qualche crescita una qualche stima asintotica e per esempio una stima di questo tipo sulla t una crescita polinomiale o sulla t o sulla x va bene e riusciamo a ottenere che u è costante o nel caso particolare in cui il drift sia semplicemente uguale a meno di t quindi sappiamo una somma di quadrati meno di t qui con Pinchover abbiamo insomma abbiamo ottenuto la stima sharp della crescita subelittica però solo quando la matrice B per esempio nell'operatore di Kolmogorov è uguale a 0 se no ci accontentiamo ad una crescita polinomiale abbiamo anche per questi operatori qua dei teoremi di Louisville di tipo polinomiale cioè se abbiamo una soluzione di L di U uguale a P cioè se L di U è uguale a un polinomio e U è maggiore o uguale di un altro polinomio sempre se U soddisfa se ha questo comportamento asintotico allora anche U diciamo che anche U è un polinomio la stessa cosa se la crescita avviene nella variabile X sostengono i stessi tipi di teoremi sia polinomiale che one side e quello che è carino è che se valgono questi teoremi per l'operatore di evoluzione quando andiamo a considerare l'operatore stazionario rispetto al T quindi ci mettiamo in RN e consideriamo solo l'operatore senza il meno DT otteniamo i teoremi di Louisville senza dover raggiungere nessuna di queste cioè non abbiamo bisogno di nessuna stima a priori di nessun comportamento asintotico a priori e quindi abbiamo per esempio il teorema sia polinomiale che il one side di Louisville senza dover raggiungere nessuna condizione però nella classe di tutti gli operatori stazionari rispetto al tempo ci sono sempre operatori di evoluzione per esempio ci sta appunto l'operatore del calore avanti e indietro e adesso l'ho scritto solo in R2 ma ovviamente e quindi comunque sono operatori di parabolici insomma e quindi otteniamo per tutti questi operatori qui il one side senza appunto dover raggiungere niente e anche qui la dimostrazione è molto semplice se ci rifacciamo al teorema in Rn più uno perché basta definire la U piccolo che dipende dalla X e dal T come la U grande di X dopodiché ovviamente U sarà anche soluzione dell'operatore stazionare meno di T ma U rispetto non dipende dal tempo effettivamente quindi U è costante per cui soddisfa anche la stima asintotica dopodiché se U piccolo è costante anche la U grande è costante quindi segue proprio facilmente adesso però tutto questo l'abbiamo detto quando l'operatore è omogeneo e c'è un teorema che è dovuto apriolo e Zabchik del 2004 in cui loro sostengono cioè dimostrano che se le soluzioni sono le soluzioni globali per l'operatore stazionario sono limitate allora e questo è un se solo se la parte reale di ogni autovalore della matrice B quindi si riferisce agli operatori di Kolmogorov è negativa e noi siamo convinti che questa cioè che in effetti basti avere il one side quindi la stima solo da un lato e non c'è no scusa la limitatezza per avere che la soluzione in effetti sia costante quello che però siamo riusciti a fare fino adesso è avere un teorema di Louis di questo tipo solo per questo operatore qua che quindi è un laplaciano che ha come parte principale e poi abbiamo appunto un drift di tipo Kolmogorov però dove B è una matrice antisimmetrica il fatto che B sia una matrice antisimmetrica implica che gli autovalori sono immaginari puri e quindi la parte reale è uguale a zero quindi siamo in un caso particolare del teorema di Priola e Zabchik e quindi sappiamo che ora se indico con questo operatore qui con K0 sappiamo che questo operatore dal teorema di Priola e Zabchik ha quella che viene chiamata la proprietà L'infinity Liouville cioè che tutte le soluzioni limitate sono costanti e noi adesso vorremmo cioè abbiamo provato che quindi basta che siano limitate da un lato le soluzioni per avere che sono costanti e l'idea per provare questa cosa qui è stata riportarci al caso di evoluzione meno di T quindi abbiamo considerato l'operatore K0 meno di T e siamo in Rn più 1 adesso e per questo operatore qui abbiamo dimostrato che vale quella che appunto abbiamo chiamato la proprietà di Liouville a T meno infinito cioè per cui le soluzioni globali hanno soddisfano il teorema che abbiamo detto prima cioè che se sono limitate o maggiore o uguale di 0 o comunque limitate da un lato il limite tende all'estremo inferiore ok se abbiamo questo cioè l'abbiamo dimostrato e praticamente diventa il risultato principale perché avendo un teorema di questo tipo segue di nuovo molto facilmente il one side anche qua di nuovo se chiamiamo m piccolo l'estremo inferiore sappiamo che u è una soluzione in rn ora se poniamo v di x e t come u di x abbiamo che v è anche soluzione della soluzione k0 meno di t inoltre ovviamente l'estremo inferiore di v è uguale all'estremo di u e all'estremo inferiore di u e quindi vale che quando il limite di v tende a quando t tende a meno infinito v tende all'estremo inferiore d'altra parte v non dipende da t e quindi uguale a u di x e quindi per forza u diventa costante e quindi se vale il teorema di Ruil per t uguale a meno infinito per l'operatore di evoluzione ricaviamo il one side per quello stazionario rispetto al tempo quindi adesso il problema diventa dimostrare il teorema di Ruil a meno infinito per l'operatore di evoluzione e c'ho ancora tempo sì e allora l'idea per dimostrarlo è usare una disuguaglianza di Arnach per le soluzioni non negative e solo per enunciarla dobbiamo solo ricordare alcune cose cioè ok c'è la legge di composizione che abbiamo definito prima e poi adesso ricordo anche che se B è antisimmetrica la matrice E che compare nella legge di composizione viene fuori che è ortogonale a un semplice punto e dopodiché andiamo a definire i paraboloidi praticamente l'idea è proprio quella del caso dell'opera come nel caso dell'operatore del calore si definiscono si definisce il paraboloide con vertice a zero in questo modo e poi per tutti i punti z a zero si prende il paraboloide traslato quindi definiamo come paraboloide con vertice in z a zero paraboloide p traslato e abbiamo questa proprietà che adesso userò che facendo i conti questa qui è una diretta cioè una semplice conseguenza della legge di composizione che se z sta dentro il paraboloide allora vale una disuguaglianza di questo tipo ma siccome ho appena ricordato che la matrice e è ortogonale abbiamo che quando t tende a meno infinito la parte a destra ovviamente tende più infinito questa parte qua e invece la parte a sinistra rimane limitata ok e quindi per qualsiasi x fissiamo in rn riusciamo sempre a trovare un tempo t grande per cui a un certo punto la striscia x t rimane tutta dentro il paraboloide dopo cioè allora questo lo useremo per tutto quello che ho ricordato lo useremo per usare questa disuguaglianza di Arnac e praticamente l'annunciato dell'Arnac quindi diventa questo che l'estremo superiore cioè se abbiamo una soluzione una negativa globale l'estremo superiore lo possiamo controllare sul scusate sul paraboloide con vertice in z0 lo controlliamo con una costante che è assoluta quindi non dipende né dalla funzione né dal punto e per il valore della soluzione nel vertice del paraboloide esattamente come nel caso del calore e ora però se abbiamo questa il problema ovviamente diventa dimostrare la disuguaglianza di Arnac però avendo la disuguaglianza di Arnac di questo tipo riusciamo a dimostrare che l'operatore K ha la proprietà di Louisville a t uguale a meno infinito perché se prendiamo una anche questa idea è molto semplice e se prendiamo una soluzione globale limitata dal basso allora dalla definizione di estremo inferiore ovviamente segue che troviamo un punto qualsiasi z epsilon tale che non so se si legge tale che v calcolato in z epsilon meno m è minore di epsilon ok e questo per qualsiasi epsilon dopodiché adesso l'idea qual è ovviamente questa qui pure sarà una soluzione perché e cioè scusate non v di z adesso l'idea è considerare la funzione v di z meno m che sarà sempre una soluzione e sarà maggiore o uguale di zero e quindi applicare l'arnac questa sopra a questa funzione qui e cosa otteniamo otteniamo che quindi l'estremo superiore su tutti i punti del paraboloide della funzione v meno m appunto è minore o uguale di questa costante per la funzione calcolata al vertice del paraboloide che però avevamo scelto abbiamo scelto questa quantità in modo tale che fosse minore di c che è la costante assoluta e di epsilon che lo stesso non dipende da nulla e quindi quello che abbiamo adesso sfruttando la proprietà che per ogni x riusciamo a trovare un tempo per cui tutta la striscia x t sta dentro il paraboloide abbiamo che esiste questo tempo per cui appunto x t sta dentro il paraboloide ma se x t sta dentro il paraboloide allora abbiamo che appunto il sup è minore di c epsilon e quindi v di x t meno m è minore di c epsilon per tutti t più piccoli quindi quando t tende a meno infinito abbiamo per forza che questa quantità qui va a zero e che quindi il limite di v tende all'estremo inferiore questo per ogni x e quindi abbiamo dimostrato il teorema con la Harnack abbiamo dimostrato il teorema di Roville a t meno infinito quindi il problema cruciale ora è dimostrare la Harnack e questo adesso non vi annoio sulla sulla dimostrazione della Harnack però giusto per darvi un'idea e noi la dimostriamo usando delle formule di media per le soluzioni e praticamente usiamo una formula di tipo Gauss della formula di media di Gauss per le soluzioni e su questi insiemi che svolgono lo stesso ruolo delle palle e solo che c'hanno c'ha la geometria ovviamente è diversa perché il polo stavolta starà sul bordo dell'insieme c'hanno una forma tipo cipolla e però praticamente riusciamo appunto abbiamo questo nucleo che possiamo scrivere esplicitamente in termini sia della soluzione fondamentale che del gradiente e dopodiché un punto cruciale è avere che per qualsiasi punto dentro il paraboloide riusciamo a trovare quindi un insieme appunto un insieme omega tale che che è contenuto completamente in uno dilatato con vertice nel paraboloide e questo qui non è valale e inoltre usando adesso mettendo tutto insieme prendendo queste soluzioni non negative applichiamo da prima la formula di media nella palla più grande dopodiché essendo la v una negativa il nucleo è strettamente positivo questa quantità qui è maggiore uguale della stessa quantità sulla palla più piccola questa è la stessa quantità dentro l'integrale l'unica cosa che facciamo è dividere e moltiplicare per questo nucleo perché ora e questo effettivamente è difficile dobbiamo stimare questo rapporto fra due nuclei ma se riusciamo a stimare questo rapporto abbiamo finito perché praticamente se noi riusciamo a dare una stima a questo rapporto succede che la la funzione da cui eravamo partiti che era v di z a zero riusciamo a dire che è maggiore uguale di una costante assoluta per v cioè viene fuori che questa qui è applichiamo la formula di media e v in qualsiasi z del paraboloide e quindi alla fine otteniamo che v di z in effetti meno uguale di c per il valore di v al vertice del paraboloide su tutti i punti del paraboloide e abbiamo l'arnac però appunto il problema è dimostrarlo più in generale per questi operatori qui adesso finito quindi la nostra adesso quello che vorremmo fare è togliere appunto dal la limitatezza da ambo i lati cioè sappiamo già dal teorema di Priore e Zavci che vale che questi operatori qui hanno la proprietà di Luville per le funzioni bounded vorremmo dimostrare che se gli autovalori di questa matrice qua B sono tutti con parte reale negativa in effetti basta avere un bound da un lato per avere Luville io ho finito volevo ecco grazie per la attenzione è la prima volta che lo scrive in italiano grazie grazie vediamo se c'è qualche commento o dov'altro che variante permette di fare aggiungere i termini non ideari nelle prossimazioni e in Italia eh fino adesso abbiamo sempre esaminato solo i casi lineari quindi non lo so però eh 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 sì siamo già diventati matti con questo caso qua lineare no no però eh comunque no ci sicuramente sì ok possiamo cominciare questa seconda sessione pomeridiana parla Davide Redarelli su approximation nasce equilibrio in games with many players in a cycle graph innanzitutto mi unisco anche i ringraziamenti verso gli organizzatori per l'idea e per avermi anche invitato qua a parlare ehm parlo di un lavoro che stiamo facendo insieme a Marco a Padova e visto che abbiamo già visto vari interventi diciamo su eh giochi su grafi network eh preciso subito che eh non è il senso in cui intendiamo noi quindi giusto per fare ancora un po' più confusione eh userò network e grafo come sinonimi e e tra l'altro con un significato diverso che spero sia subito chiaro cioè eh quello che vogliamo fare è studiare e approssimare equilibri di Nash in giochi a n giocatori con n molto grande eh in un contesto che si distanzia un po' da quello dei giochi a campo medio nel senso interazioni non simmetriche soprattutto eh interazioni di ciascun giocatore solo con un eh sotto insieme degli altri giocatori eh per cui eh se andiamo a vedere il costo degli esimo giocatore eh nel caso minfield questa interazione con gli degli esimo giocatori con gli altri si può vedere nella presenza in questa dipendenza dalla misura empirica classica insomma i giochi a campo medio eh mentre e in quello che noi chiamiamo gioco su un grafo gioco su un network intendiamo che eh c'è una struttura sottostante di grafo che modellizza un po' come eh avvengono le interazioni tra i giocatori cioè ehm diciamo quanto il l'iesimo giocatore effettivamente eh a quanto a lui interessa quello che stanno facendo gli altri insomma quindi eh una prima formulazione di questo tipo di situazione può essere eh la media empirica non la facciamo con tutti gli altri n giocatori ma la facciamo eh solo per quelli che appunto in senso di questo grafo sottostante eh sono collegati al nostro iesimo giocatore e poi chiaramente questo si può anche generalizzare dicendo prendiamo una una media pesata con dei pesi WIJ che non sono necessariamente simmetrici e possono essere nulli in base appunto se abbiamo collegamento tra l'iesimo e il cesimo giocatore sul nostro grafo oppure no e quindi il punto è che eh nel caso di giochi a campo medio i giocatori sono indistinguibili quindi ognuno risulta essere rappresentativo e inoltre abbiamo eh molte interazioni tutte le quali al limite risultano essere eh trascurabili e questo è quello che sostanzialmente eh permette di avere una buona descrizione asintotica del problema quanto è il numero di giocatori tende all'infinito e e quindi domande naturali che che vengono da fare in in queste situazioni di giochi su su grafi è se sia ancora possibile identificare una una descrizione asintotica se eh oppure sia possibile fare una riduzione del modello limite e con questo abbiamo un po' in mente il fatto che eh se abbiamo una situazione in cui ciascuno giocatore vede solo un certo numero di altri giocatori quello che uno si può si può aspettare è che se ci interessiamo ad avere un'approssimazione di quello che fa eh un giocatore fissato rappresentativo possiamo pensare eh di poter studiare un problema ridotto con un numero sensibilmente inferiore di giocatori avere appunto lo stesso una buona approssimazione e e nei casi in cui questa descrizione riduzione si possa fare eh se eh quello che otteniamo è qualcosa che coincide con diciamo il sistema classico dei giochi a campo medio e per dare un po' un'idea eh il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni su questo tipo questo tipo di cose abbiamo un un lavoro di De La Rue eh in cui lui studia il problema su grafiti tipo Ed Oshoreni e un lavoro ancora più recente di La Kerensoe eh che studiano il caso lineare quadratico e per certi versi studiano una situazione eh molto vicina alla nostra ma diciamo non abbastanza vicina eh e a parte molti 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 lavori diciamo senza la componente di gioco poi ci sono questi che hanno proliferato negli ultimi anni su grafoni Carmona eh Keynes Parise Lacan Sore e dove grafoni sono funzioni che sono diciamo l'oggetto limite naturale per rappresentare grafi densi eh con un numero infinito di di vertici in in queste situazioni quindi il punto principale sarebbe quando i grafi sono densi abbiamo un limite naturale che può essere descritto usando questi questi grafoni mentre quando i grafi sono sparsi che è la situazione che su cui ci siamo interessati maggiormente eh questa cosa non si può fare quindi bisogna fare uno studio un po' un po' diverso e diciamo il problema che abbiamo che abbiamo considerato ha come grafo sottostante una una catena di giocatori per cui eh ciascun giocatore è collegato ad altri due che saranno i i suoi diretti vicini insomma nel senso di di questo disegno e quindi il costo dell'iesimo giocatore eh avrà questo tipo di forma dove appunto compaiono solo i xi e i xi più o meno uno eh la dinamica che assumiamo è quella più più semplice che possiamo prendere i rumori browniani indipendenti e i eh come indice eh può variare diciamo tra meno n a n per cui il nostro grafo sottostante è un segmento oppure possiamo pensare di chiuderlo quindi un grafo quello che chiamiamo un grafo ciclico oppure varia tra tutti gli interi quindi abbiamo una catena con una doppia direzione nel senso che ciascun giocatore vede sia quello alla sua destra che quello alla sua sinistra e questo è questa situazione è anche considerata appunto nel lavoro citato eh di la Kerensoe anche se con un costo diverso e anche da un articolo di fuga e altri quindi la domanda è appunto è possibile questa approssimazione cioè nel caso dei giochi a campo medio sappiamo che le strategie per un gioco di n giocatori con n grande possono che siano open loop o closed loop possono essere approssimate per ogni giocatore da strategie che vengono da da un modello limite poi è il sistema in field o la master equation mentre quello che ho anticipato prima che ci aspettiamo in questi casi è che possiamo fissare un giocatore di riferimento e per un numero elevato di giocatori la la sua strategia all'equilibrio può essere ben approssimata da strategia sempre del nostro giocatore di riferimento quando invece consideriamo un gioco analogo ma con molti meno giocatori e questa è quella che noi chiamiamo trascurabilità dei giocatori distanti con l'idea appunto che possiamo localizzare l'analisi del problema a infiniti giocatori considerando il fatto che i giocatori troppo distanti dal nostro evento da un nostro giocatore di riferimento hanno veramente un piccolo impatto sul suo comportamento e prima di mostrare un risultato che abbiamo ottenuto che mostra che diciamo nel nostro modello questo succede volevo mostrare un esempio che in realtà fa vedere che non è una cosa che uno in generale si aspetta che avvenga ad esempio se consideriamo un gioco in cui il grafo sottostante è questa catena in cui ogni giocatore vede solo un altro degli altri quello alla sua destra in base a come li pensiamo insomma possiamo considerare un costo di questo tipo di una animica semplicissima e in questa situazione quello che stiamo dicendo è che il giocatore uno può fare quello che vuole quindi e poi gli altri si dovranno si dovranno muovere di conseguenza e quindi possiamo pensare ai casi in cui uno sta fermo quindi a posizione costante e se posizioni iniziali degli altri giocatori non sono troppo distanti quello che succede è che per minimizzare questi costi questi tendono ad avvicinarsi tra di loro ma il punto è cosa succede ad esempio alla posizione finale di giocatori lontani dal giocatore uno quindi ad esempio il giocatore ennesimo quando quando variamo la posizione del giocatore uno e se se abbiamo diciamo un orizzonte temporale sufficientemente piccolo quindi t grande è uguale a uno nel primo grafico vediamo che per un numero piccolo di giocatori ci sono intervalli in cui possiamo considerare di variare la posizione di x uno e questo avrà un impatto su su quale sarà la posizione di x n al tempo t mentre se abbiamo un numero sufficiente di giocatori che corrisponde n uguale a 50 alla retta orizzontale vediamo che x n non vede più questa variazione di x uno cosa che invece continua ad avvenire se aumentiamo l'orizzonte temporale se ti è uguale a due anche aumentando il numero di giocatori quello che succede è che ci sarà sempre un intervallo in cui possiamo variare la posizione di x uno e questo continuerà ad avere un effetto non trascurabile su anche giocatori lontani per cominciare caso open loop della nostra situazione è questo consideriamo controlli di questa forma e sappiamo che equilibri possono essere caratterizzati come si fa sempre funzioni e valori in questo modo dove appunto variano solo la dipendenza dagli indici i più uno e meno uno e sappiamo che queste funzioni e valori risolvono il solito sistema Hamilton-Jakobi-Melbourne come Goff-Fock e Planck e dove f avrà questa struttura che viene appunto dall'ipotesi che abbiamo fatto sul costo e in particolare la Hamiltoniana sarà la trasformata di Legendre di questa funzione i che dipende dal controllo e che noi assicuriamo essere fortemente convessa in modo tale da avere buone proprietà della Hamiltoniana per fare i conti che ci servono e quindi per capire se è possibile fare una riduzione come come descrivevo prima andiamo a vedere andiamo a studiare unicità e stabilità delle soluzioni e le ipotesi che mettiamo soprattutto ipotesi su Fi e sono queste due la con D1 indico la derivata rispetto al primo argomento dell'Fi che è quello che vede la dipendenza da Xi e la seconda è chiaramente una una condizione di condività di psianità del di questa derivata mentre la prima è quella che un po' ci ricorda quella che è la displacement convexity in caso di ciò che è a campo medio però faccio notare che quello che stiamo richiedendo sui le costanti che intervengono in queste condizioni è in ultima istanza che i più più c meno sia positivo quindi non stiamo chiedendo un segno particolare per c più o c meno distintamente quindi ammettiamo anche casi in cui ad esempio una delle due sia semplicemente semiconvessa rispetto alla prima variabile e quello che riusciamo a dimostrare è che se consideriamo due soluzioni del nostro problema e supponiamo che queste abbiano le stesse condizioni iniziali possiamo considerare una una misura mui che ha come marginali mi m bar e considerare queste a gotiche che vogliamo usare essenzialmente per stimare la distanza di vaste stai tra queste due misure e quello che si riesce a far vedere è che le IE soddisfano una disuguaglianza ricorsiva di questa forma dove i delta IE possono scrivere esplicitamente e le nostre condizioni garantiscono che la loro somma sia uniformemente in strettamente minore di 1 l'idea in realtà è molto semplice dietro alla dimostrazione di questo fatto infatti se uno considera il caso senza rumore lineare quadratico simmetrico FI più è uguale a FI meno è uguale per ogni consideriamo la territoria di equilibrio dell'iesimo giocatore sappiamo che questa risolve un sistema di equazioni di Olero Lagrange per cui possiamo prendere due equilibri prendere la differenza scrivere l'equazione per la differenza e testare per la differenza e quindi da Poncaret uno ottiene una una disuguaglianza di questo tipo che appunto si può riscrivere nella forma che vi ho appena mostrato una prima conseguenza di avere una disuguaglianza così fatta è che se siamo in una situazione di grafo ciclico siamo in una situazione in cui siamo sotto una retta con infiniti giocatori possiamo prendere il massimo su tutti lì allora questo forza le AI ad essere nulle e questo in questo senso ci dà unicità delle soluzioni ma il punto è che vogliamo usare il fatto che sappiamo che vale una disuguaglianza di questo tipo per dire che è possibile fare questa famosa riduzione a un problema con meno giocatori in cui possiamo fare questo giochino di prendere il massimo perché le AI sono come penso sarà chiaro tra poco costruite a partire da una soluzione del sistema con infiniti giocatori e una soluzione del nostro sistema ridotto e quindi siamo interessati a cosa ci dice questa disuguaglianza nel caso in cui cosa ci dice questa disuguaglianza su come i giocatori lontani da AI impattano su AI e quello che riusciamo a far vedere è che vale una disuguaglianza analoga dove al posto delle AI corrispondenti AI-1 AI-1 corrispondenti agli immediati vicini del giocatore Iesimo ci sono quelle relative ai giocatori che distano una potenza di 2 con i coefficienti che hanno somma che per il fatto che delta più più delta meno era strettamente staccato da 1 hanno somma che appunto decaderà esponenzialmente convergerà esponenzialmente a 0 aumentare questa potenza di 2 e con questi strumenti possiamo dire che se consideriamo due problemi come quelli che vi ho mostrato sopra uno con i in z e uno pensando di aver preso il nostro giocatore rappresentativo i uguale a 0 con i che varia tra meno m e m supponiamo che abbiamo che questo problema ridotto abbia le prime 2m meno più 1 cioè tutte quelle che possiamo imporre 2m più 1 condizioni iniziali coincidenti con quelli del problema infiniti giocatori che questi abbiano momenti secondi limitati allora se prendiamo due soluzioni una del primo problema e uno del secondo problema abbiamo questa questa stima su distanza l2 parse stein tra la distribuzione del giocatore del nostro giocatore rappresentativo nel caso di gioco infiniti giocatori e nel caso del gioco ridotto che appunto per il fatto che questo delta è minore di 1 tra l'altro questo delta è proprio questo questo numero qua possiamo a fatto di prendere m abbastanza grande rispetto a quanto vogliamo precisare l'approssimazione appunto rendere rendere piccolo quanto vogliamo e visto che stiamo lavorando in un contesto di orizzonte fissato e t grande fissato faccio presente anche che la nostra ipotesi su la disegrenza che devono soddisfare i coefficienti può essere rilassata in questo senso cioè aggiungendo questo termine k su t quadro per passare invece a quello che finora siamo riusciti a fare nel caso closed loop dove consideriamo controlli che hanno invece questa forma e sappiamo che le corrispondenti funzioni valore soddisferanno al sistema di Nash di questa forma e in questa situazione noi ci concentriamo adesso sul caso lineare quadratico quindi supponiamo che il costo la funzione la funzione valore abbia questa forma dove faccio notare che i coefficienti nu più e nu meno non dipendono da i e questo dà un'ulteriore proprietà di invarianza rispetto a shift del problema che userò tra poco e in questa situazione come si fa facciamo il solito ansa sulla forma che dovrebbe avere funzione valore e sostituendo questa nel sistema di Nash otteniamo questo sistema di ODI per le matrici C a questo punto possiamo usare la invarianza per shift del nostro problema per riscrivere questo sistema di ODI solo rispetto alla matrice del giocatore rappresentativo che sarà sempre lo zeresimo solo rispetto a C apice 0 usando il fatto che vale questa identità e quindi otteniamo o mettendo la dipendenza all'apice 0 otteniamo questo sistema di equazioni per C e la cosa che ci ha interessato a questo punto è stata notare che nella somma su J possiamo riconoscere questi termini che sono essenzialmente convoluzioni discrete tra C in questi casi c.0 c.k e usando il fatto che abbiamo questa struttura riusciamo a dimostrare un tema di esistenza in tempi brevi questo tempo breve diciamo è uniforme rispetto al numero di giocatori e abbiamo delle stime su su questi coefficienti cj che dicono che decadono anche abbastanza velocemente quando gli OJ divergono la dimostrazione di questo fatto si basa su un argomento di punto fisso su un insieme di questo tipo dove la successione di è scelta in modo tale che abbia la proprietà che se prendiamo D convolviamo discretamente con se stessa questa è ancora controllata da D stessa e essenzialmente questo è quello che fa funzionare la dimostrazione insieme al fatto che la la matrice F abbia supporto compatto in z per z cioè solo un numero finito di entrate sia non nulla quindi in un certo senso ci aspettiamo che questo risultato possa essere migliorato con un risultato di esistenza per ogni t fissato nel caso specifico del problema che stiamo considerando se riusciamo a trovare un argomento che tiene in considerazione che FJ è un segno che cambia segno in particolare che F00 è positivo F01 è negativo eccetera però questo prende dentro anche molti più casi in cui appunto tutti quelli in cui F ha supporto compatto in cui possiamo essere anche un po' più contenti di questo tipo di risultato e in questo contesto la trascurabilità dei giocatori lontani si vede nel fatto che le derivate sono il valore giocatore rappresentativo vediamo che decadono più che esponenzialmente se man mano consideriamo derivate rispetto a indici che sono legati a posizioni sempre più distanti dalla Zeresi e questo permette anche di passare al limite nel sistema di Nash perché abbiamo convergenza della serie evidenziata e volevo far notare che questo invece non è possibile nel caso giochi a campo medio appunto proprio per questo motivo uno finisce usare la master equation perché il controllo che possiamo dare in quel caso è dire che djui è di ordine 1 su n djui è limitato quindi non abbiamo questo tipo di convergenza e per concludere volevo fare un altro confronto tra questo tipo di giochi su network e giochi a campo medio per quanto riguarda la relazione tra equilibrio open loop e equilibrio closed loop cioè il fatto che se consideriamo la situazione di giochi a campo medio pensiamo alla funzione valore closed loop sappiamo che per un numero elevato di giocatori questa è ben approssimata questa wcorsiva che soluzione della master equation che essenzialmente è una è una soluzione è una funzione valore open loop soluzione del sistema minfield a cui mettiamo in evidenza la dipendenza dalla condizione iniziale e questo si può fare perché appunto questa wii e le sue derivate sono sempre più indipendenti da xj per ogni j che non è i quindi nel senso della terminologia che ho finora adottato possiamo dire che in questo caso ogni giocatore che non sia i è trascurabile per i invece nella nostra situazione solo i giocatori distanti sono trascurabili solo i giocatori abbastanza lontani da i sono trascurabili per i e e quindi quello che ci aspettiamo sia vero in questi in questi casi di giochi giochi su grafi è che anche al limite equilibri close loop e quick loop il risultino può essere differente e vi ringrazio e concludo sull'unicità no perché non abbiamo neanche unicità dei C per come lo dimostriamo quindi per ora no l'esistenza viene dalla costruzione nel senso che abbiamo le soluzioni C IJ per ogni N usiamo il fatto che il tempo l'intervallo su cui esiste la soluzione non dipende da N come lunghezza e quindi possiamo prendere tutti C J per IJ che variano in Z costruiamo quella che dovrebbe essere diciamo formalmente la soluzione poi passando al limite facciamo vedere che che la soluzione sono altre domande giusto una curiosità perché utilizzate quella 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 ipotesi fra le L calligrafico del C è il c'è qui perché le delta risultano fatte così e noi vogliamo che la che la che la loro somma sia estremamente minore domande se noi ringraziamo la mente Davide ok l'ultima speaker di oggi è Roberta Ghezzi che ci parlerà di regularity of unbalance top del trasporto grazie ok intanto ringrazio Cristian Paola e Alessandro dell'invito a questa bella conferenza e quindi ah mi manca il pointer ok e vi parlerò di questo lavoro sulla regolarità di problema di controllo ottimo unbalanced che è fatto in collaborazione con Tomaga Louet dell'Iria Paris e François Xavier Vialard dell'Università Gustave Eiffel di Parigi ok dunque il piano è quello di fare diciamo in una prima parte alcuni brevi richiami della teoria classica del trasporto ottimo e nominerò diciamo in contesto euclideo e rimaniano alcuni risultati principali di esistenza e poi sulla regolarità delle soluzioni del problema di trasporto ottimo e nella seconda parte invece mi focalizzo sul problema unbalanced che sostanzialmente consiste nella generalizzazione nel considerare il problema di trasporto ottimo tra misure che non hanno massa totale 1 ok misure di radon positive finite ma la cui massa totale può essere qualunque e in questo contesto diciamo nominerò i risultati che ci sono di esistenza e noi abbiamo considerato il problema della regolarità quindi per quanto riguarda il problema di trasporto ottimo classico nella sua prima formulazione quella di Monge il contesto è quello di appunto diciamo qui lo dico nel caso dello spazio euclideo rn e si considerano due misure di probabilità che rappresentano delle distribuzioni di massa assegnate si considera una funzione costo positiva che rappresenta dove c di x y rappresenta il costo per trasportare una unità di massa dalla posizione x alla posizione y e la domanda che ci si pone è quella di se è possibile trasportare la distribuzione di massa mu nella distribuzione nu minimizzando il costo e quindi nella sua formulazione il problema di Monge è quello di calcolare l'estremo inferiore di questi integrali dove compare appunto il costo e si calcola l'estremo inferiore sulle mappe di trasporto t che sono quelle che portano sono tali che il pullback della misura di partenza mu diventa la misura nu assegnata nu e diciamo i costi inizialmente quello che si è considerato nel caso Euclideo possono essere la distanza o delle sue potenze il problema è stato risolto da Brenier e questo diciamo è uno dei primi risultati in cui si dimostra che date due misure a supporto compatto nello spazio Euclideo supponiamo che la misura di partenza mu sia assolutamente continua rispetto alla misura di Lebesgue con densità mu barra si considera il problema di trasporto di Mange con distanza al quadrato con costo quadratico e è possibile quindi si dimostra che esiste un'unica mappa di trasporto che è ottimale cioè che risolve il problema e inoltre si ha una rappresentazione per la mappa di trasporto come gradiente di una funzione convessa da RN in R inoltre se in più anche la misura target nu è assolutamente continua rispetto alle bag allora vale questa equazione dove T quindi è la mappa di trasporto ottimo e al mio modo di destra abbiamo il rapporto tra la densità della misura di partenza rispetto alle bag e la densità della misura target calcolata nel punto trasportato e quindi c'è esistenza della mappa di trasporto e inoltre diciamo la funzione valore associata al problema di Mange definisce una distanza sullo spazio delle misure di probabilità che è la cosiddetta distanza di Valsesternia è stata anche nominata nel talk precedente ecco dal contesto euclideo con costo diciamo una potenza alla distanza questo diciamo sono poi scaturite una serie di generalizzazioni diciamo si è aperta questa branca e ecco qui vi presento una generalizzazione al caso di una varietà rimaniana compatta e un costo C generale quindi è dovuta a McCann e quello che viene dimostrato è che se prendiamo due misure di probabilità sulla varietà e se il costo è sufficientemente regolare quindi di classe C2 e se si ha questa condizione di twist cioè che per ogni punto della varietà la mappa che a Y associa il gradiente rispetto al primo gruppo di variabili della funzione costo calcolato in Y deve essere iniettiva se la misura di partenza è assolutamente continua rispetto al volume rimaniano sulla varietà allora il problema di trasporto di Monge sulla varietà ha soluzione e di nuovo la mappa di trasporto si può scrivere come un esponenziale di una funzione C-convessa dove la nozione di C-convessità diciamo è legata appunto alla alla funzione costo e questa C-esponenziale anche diciamo è definita da questa ultima linea dove vediamo che la C-esponenziale in un punto X di un vettore tangente ad M in X è uguale a un punto Y se solo se meno nabla X C è uguale a V quindi vedete questa iniettività serve a poter definire la C-esponenziale quindi il problema di Monge ammette soluzione la soluzione si può rappresentare come di nuovo come gradiente di funzione convessa e di nuovo si ha un'equazione di questo tipo se anche la target measure è assolutamente continua rispetto al volume quindi dove qui appare il quoziente tra le due densità una volta diciamo assicurata l'esistenza la domanda naturale seguente è quella di capire essendo la mia mappa di trasporto T una mappa da RN in sé o da una varietà in sé capire qual è la sua regolarità e il problema della regolarità diciamo se ci ricordiamo quindi qui lo riscrivo sempre nel caso Euclideo per il costo quadratico se ci ricordiamo questa equazione che viene soddisfatta dalla mappa di trasporto diciamo se sostituiamo a T il fatto di essere gradiente di una funzione convessa nella funzione phi l'equazione diventa un'equazione di tipo un'equazione di mongeampere dove si ha appunto determinante dell'essiano uguale al quoziente tra le due densità e inoltre phi deve soddisfare una condizione di questo tipo dove omega è un aperto che contiene il supporto di mu omega primo è un aperto che contiene il supporto della misura target e quindi questa condizione esprime essenzialmente diciamo in modo geometrico il fatto che la mappa di trasporto nabla phi deve trasportare il supporto della misura di partenza nella misura di arrivo e proprio questa condizione dà delle ostruzioni alla regolarità e in particolare quello che è stato fatto su questo problema diciamo nel lavoro importante di Caffarelli è che è stato visto che la condizione la buona condizione geometrica da dare sui supporti delle misure affinché quindi soluzioni di questo problema siano regolari è che il supporto della misura target deve essere convesso e effettivamente quindi si dimostra che sotto questa condizione geometrica se il membro di destra qui dell'equazione è buono cioè liscio positivo e finito allora le soluzioni phi è liscia e quindi lo è anche la mappa di trasporto quando si considera il problema della regolarità in un contesto rimaniano con costo generale che cosa succede che l'equazione questa equazione che valeva per la distanza al quadrato diciamo nel caso di un costo generale assume questa forma quindi vedete a destra si ha sempre il quotiente e la densità e in più c'è diciamo questo determinante dello jacobiano del costo e invece a sinistra si ha il determinante dell'essiano di psi di questa funzione convessa che definisce la mappa di trasporto ma si ha anche un termine diciamo di perturbazione nelle derivate seconde del costo c e effettivamente diciamo quindi la regolarità dipende diciamo per affrontare il problema della regolarità bisogna lavorare di più e l'idea diciamo chi è riuscito a fare a dedurre regolarità per soluzioni di questa equazione sono Ma Trudinger e Wong che sostanzialmente hanno l'idea è quella di derivare due volte nello spazio questa equazione e usare la definizione della mappa di trasporto come c esponenziale per diciamo ottenere un'equazione lineare nelle derivate seconde di psi e per ottenere una stima a priori su queste derivate seconde dalla quale dedurre regolarità occorre che una certa quantità abbia un segno definito e questa quantità è quello che è stato chiamato appunto il tensore di Ma Trudinger e Wong che è un oggetto che contiene le derivate quarte del costo perché appunto come dicevo si deriva due volte questa e sostanzialmente è un oggetto che mangia coppie di punti e coppie di vettori tangenti al primo argomento qua al primo punto x e sostanzialmente considera il costo calcolato su due punti cioè su due curve partenti dal punto la prima parte dal punto x a vettore tangente iniziale il vettore xi e la seconda curva parte dal punto x a vettore tangente iniziale eta e questo vettore v è quello diciamo che è in corrispondenza con y tramite la c esponenziale e quello che dimostrano Matt Rudinger e Wong è che questa condizione la condizione diciamo di positività di questo tensore positività in questo senso cioè che il tensore deve essere più grande di una costante volte queste norme al quadrato dove i due vettori xi e eta devono essere ortogonali qui diciamo è nascosto ma questa ortogonalità diciamo non è un'ortogonalità in senso rimaniano ma un'ortogonalità rispetto alle derivate prime del costo diciamo c'è la matrice jacobiana del costo che entra in gioco qui e quello che dimostrano Matt Rudinger e Wong è che sostanzialmente sotto le stesse ipotesi del 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 caso Euclideo cioè densità buone lisce limitate positive limitate e finite supporti lisci e contenuti in insieme aperti dunque se il costo è abbastanza regolare ovviamente nel tensore appaiono derivate quarte quindi serve che sia di classe C4 deve essere soddisfatta la twist condition nelle entrambe le variabili si richiede una non degenericità questo vi ricordo appariva nel membro di destra dell'equazione di Mons-Champère e c'è una condizione di conversità sui supporti come avveniva nel caso Euclideo e diciamo quindi modulo tutte queste 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 assunzioni che in qualche modo erano già evidenti nel caso Euclideo la condizione di positività di questo tensore è sufficiente ad assicurare regolarità per la mappa di trasporto Ok che cos'è il trasporto ottimo unbalanced sostanzialmente come dicevo l'idea è quella di generalizzare il problema di trasporto ottimo a misure che non necessariamente hanno massa 1 ma possono avere massa positiva e finita semplicemente finita quindi dallo spazio delle misure di probabilità passiamo allo spazio delle misure di radonna sulla positiva e sulla varietà e diciamo un modo naturale per vedere come appare questo tipo di problema è quello di considerare la formulazione dinamica del problema di Mons nel caso classico dunque una possibile formulazione equivalente a quella di Mons che ho dato all'inizio è questa dovuta a Jean-David Benamou e Jan-Ragnier in cui diciamo che hanno dimostrato che la distanza di Wasserstein si può ottenere anche come estremo inferiore di questo che cos'è questo l'energia cinetica associata a questa curva rho di densità di misure dove le misure devono soddisfare un'equazione di continuità e naturalmente all'istante iniziale la misura è quella di partenza all'istante finale è quella target quindi ecco questa è la formulazione dinamica del trasporto classico se nell'equazione di continuità inseriamo un termine una sorgente possiamo e quindi è naturale considerare il problema di minimizzazione dell'energia totale energia cinetica energia potenziale e questo dà origine a quella che in letteratura si chiama distanza di Wasserstein Fischer Rao sullo spazio delle misure di Radon e quindi questo è un modo per motivare un modo in cui appunto appare naturalmente il trasporto ottimo unbalanced ecco questo problema è stato studiato è stato considerato in questi articoli recenti e come vedete sono comunità diverse ma che hanno lavorato in contemporanea quindi Schiza Schmitzel Pere e Viala e diciamo che avevano motivazioni anche un pochino più volendo numeriche venendo proprio dal trasporto ottimo nel suo interesse numerico invece la comunità Lino-Milke-Savare diciamo questo lavoro qui è più diciamo in spazi metrici generali e in particolare quindi è stata data una formulazione di Kantorowicz di questa distanza di Wasserstein-Fischer-Rao dove come vedete quindi qui il risultato che cosa dice prendo due misure di Radon e allora la distanza di Wasserstein-Fischer-Rao che è quella che ho diciamo definita prima con la formulazione dinamica si può anche calcolare scusate si può anche calcolare facendo l'estremo inferiore di questo funzionale che cos'è questo funzionale dunque qui abbiamo un termine di trasporto come avviene nel caso classico c'è l'integrale del costo su un piano di trasporto tra misure solo che nel caso di trasporto classico il piano qui ha marginali che sono esattamente la misura di partenza e la misura target qui invece abbiamo che la prima marginale del piano di trasporto deve avere diciamo un'entropia minimizzata rispetto a Mu e stessa cosa diciamo la seconda marginale del piano di trasporto deve minimizzare questa entropia rispetto a Mu dove questo funzionale è un funzionale entropia di questo tipo e come vedete appaiono le densità del primo argomento rispetto a secondo e appunto appaiono queste misure quindi sostanzialmente invece che fissare le marginali si chiede che questa entropia resti piccola e il costo che appare qui è un costo esplicito dato da questa funzione meno logaritmo del coseno al quadrato della distanza del minimo tra distanza e pi greco mezzi e ok quindi diciamo in questi in questi lavori vengono dimostrati i risultati di esistenza e diciamo vengono date l'equivalenza di una serie di formulazioni del problema quindi al problema di Monge formulazione alla Cantorovic formulazione dinamica e viene dimostrato che sono equivalenti con tecniche diverse inoltre si ha di nuovo un'equazione di tipo di Mongeampere allora quello che è stato dimostrato da Galouette e Villar è che sotto diciamo una condizione di ammissibilità ecco le misure sono di Radon possono avere massa totale qualunque però diciamo per poter per poterne fare la distanza in realtà di Vacher e Fischer occorre questa condizione di compatibilità tra i supporti diciamo che quando C è la distanza quindi per il costo quadratico questa condizione dice che la distanza di Hausdorff tra il supporto di Mu e di Nu deve essere finita quindi diciamo c'è libertà su una massa totale ma in qualche modo i supporti tra sorgente e target devono essere interlacciati diciamo in qualche modo e ecco è stato dimostrato che sotto questa condizione di ammissibilità il problema di trasporto ottimo ad Malan si ammette una soluzione che di nuovo si scrive come esponenziale del gradiente di una funzione conversa dove questo costo qui vi ricordo è meno logaritmo coseno al quadrato e la soluzione unica e in più la mappa di trasporto soddisfa questa equazione di tipo Monge Ampere quindi di nuovo diciamo abbiamo come valeva nel caso del trasporto classico qui abbiamo le derivate lessiano di psi e le derivate seconde del costo e qui abbiamo una funzione che diciamo nel caso di trasporto classico c'era solo questo termine e si aggiunge questa quest'altra funzione che in termini di psi è abbastanza bella perché qui abbiamo un esponenziale non ci dà fastidio e qui abbiamo la norma del gradiente di psi al quadrato ma nel risultato si dimostra anche che la funzione psi non solo è conversa ma è anche l'ipschitz e quindi questo termine a destra è abbastanza buono si meno log coscare coseno al quadrato ok quindi l'idea è visto che abbiamo un'equazione di tipo mongeampere anche per questo problema di trasporto unbalanced e visto che questo termine di destra è bello vogliamo usare la stessa tecnica di Matt Rudinger e Wong per le dure regolarità e quindi andiamo a calcolare il tensore di Matt Rudinger e Wong associato a questo costo meno logaritmo coseno al quadrato e quello che abbiamo fatto quindi è stato fare questo calcolo negli spazi a curvatura costante quindi nel caso Euclideo nel caso di sfere con la distanza indotta dalla metrica Euclidea e quello che abbiamo dimostrato è che nel caso Euclideo la condizione di Matt Rudinger e Wong per questo costo fallisce e nel caso delle sfere la condizione di nuovo fallisce se il raggio è troppo grande se il raggio è maggiore di 1 e l'abbiamo dimostrata facendo il calcolo esplicito del tensore per due raggi raggio 1 raggio 1 mezzo adesso poi spiego perché questi due valori specifici e per raggio 1 il tensore in realtà si annulla identicamente sui vettori che sono ortogonali quindi il vettore è nullo non è solo positivo è proprio nullo il vettore scusate il tensore invece per raggio 1 mezzo il tensore si calcola ed è diciamo di natura quadratica e come abbiamo fatto come abbiamo ottenuto questo risultato abbiamo usato un lavoro di lì e lì in cui vengono calcolati viene calcolato il tensore di Matt Rudinger e Wong su questi spazi per costi del tipo una funzione L della distanza sullo spazio e qui abbiamo dove la funzione L deve soddisfare certe ipotesi che nel nostro caso meno logaritmo coseno al quadrato sono soddisfatte e e quindi per ottenere la condizione di Matt Rudinger Wong bisogna verificare delle condizioni studiare i segni di certe funzioni allora nel caso di queste sfere queste funzioni sono delle funzioni trigonometriche più o meno complicate e per il raggio un mezzo ci sono delle semplificazioni dovute sembra stupido ma è così dovute alle formule di bisezione e anche per il raggio uno e quindi il calcolo si semplifica notevolmente quindi grazie a questo fatto possiamo dimostrare quindi abbiamo dimostrato che quando prendiamo questo costo e ci mettiamo sulla sfera di raggio un mezzo o di raggio uno se le due misure sono ammissibili rispetto a quella condizione che dicevo prima e se hanno densità che si comportano bene supporti che si comportano bene allora la la mappa di trasporto è liscia e la soluzione dell'equazione diciamo la funzione convessa qui è liscia e e anche diciamo sulla sfera diciamo vi riportavo che questa c esponenziale in realtà è proprio un esponenziale rimaniano del vettore v ma rinormalizzato secondo secondo questo fattore ecco quindi in realtà dal diciamo numericamente sospettiamo cioè ci sembra abbastanza evidente che che il il calcolo della delle condizioni di segno di Matt Rudinger e Wong valga su tutte le sfere di raggio 3,0 e 1 però è ancora in corso di dimostrazione quindi sospettiamo che la cosa valga anche per tutti i raggi e in particolare stiamo cercando di calcolare questa costante per la quale si ha questa condizione di positività di Matt Rudinger e Wong e per questo diciamo quindi quello che stiamo facendo è duplice la via che stiamo testando è duplice cioè stiamo testando la via che è quella del calcolo esplicito su queste sfere e poi c'è un'altra via che si basa su il lavoro di Liro Mirce Savare in cui il problema di trasporto ottimo unbalanced sulla varietà viene collegato a un problema sollevato su un cono un cono sulla varietà in cui sostanzialmente si aggiunge una semiretta che tiene conto essenzialmente di come la massa si si sposta essendo che le masse hanno le distribuzioni le misure hanno massa totale che può cambiare e quindi l'idea è quella di Liro Mirce Savare collegano il problema di trasporto ottimo unbalanced sulla varietà a un problema di trasporto classico sul cono con una certa distanza quindi l'idea è di testare se sul cono vale la Matt Rudinger Walling per la distanza e mostrare che questo implicherebbe la Matt Rudinger Walling per il costo meno logaritmo coseno al quadrato sotto su M e poi l'altra direzione in cui ci stiamo muovendo è capire se questi calcoli sono stabili per perturbazioni della metrica sulle sfere ovviamente perturbazioni buone in cui vogliamo che il costo resti regolare e vedere se il risultato si può generalizzare e vi ringrazio dell'attenzione e il coefficiente si si ah di questa costante no sulla sharpness ancora no su no no si sembrerebbe continuo vale tre mezzi nel caso un mezzo e noi non lo sappiamo se si questo non l'ho ancora fatto non ancora no 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 non l'ho detto questo viene da un lavoro di leper sull'antenna reflector viene fuori da un da un problema adesso io non conosco a fondo il lavoro ma è là che emerge e che poi è stato anche nei lavori di lero miche savare eccetera viene viene spiegato il perché il tensore è una quantità di un oggetto definito dove l'ho messo e è questo quindi è in funzione del costo ok che cosa succede quando le masse possono essere variabili il fatto di avere una formulazione così equivalente a una formulazione di questo tipo che cosa succede che quindi nel caso classico questo termine non c'è e invece nel caso unbalanced appaiono queste entropie però nel risolvere sostanzialmente nel risolvere questo problema ci si riconduce al fatto che le marginali saranno fissate quindi diciamo il sì sì no sì sì poi viene anche da questo da questa equazione una volta che uno dimostra fa un po' più di fatica e dimostra che questa la soluzione è Lipschitz per cui il termine di destra qui che rispetto all'equazione del trasporto classico ha solo questa cosa diversa avendo dimostrato che questa è Lipschitz questa cosa mi piace è buona e qui il termine di sinistra è uguale quindi il tensore viene da qua da queste derivate seconde di questo termine un po' più di